Mi sente meglio, mi sente peggio, mi sento uguale, mi sente... Ti sento benissimo. Ok, a posto, allora il microfono è attivo. Cioè, ti sto utilizzando il superlativo assoluto, eh. Cioè, non so se... Cioè, proprio... Guarda. Scusate, cara. Me lo merito tutto. Scusate se ho invitato Cloud, però... Cioè, praticamente, avevo chiesto a Crocate, spero non poteva. Erano finiti quelli bravi. E quindi ho invitato Cloud. La maglia di Ronaldo era finita. La maglia di Ronaldo era finita. Sapete qual è la cosa più bella? Io oggi volevo fare la preview, no? Assolutamente sì. Però volevo fare la preview. Però volevo anche fare un attimino un commento su Alchemy anche. Accendo anche la luce così sono anche più illuminante. E il commento su Alchemy, che non gli frega niente a nessuno di sto formato, perché va detto. Ciao Bolt. Il commento su Alchemy non può non dipendere dal fatto, cioè non può non partire dal fatto. Quindi la mia, diciamo, voglio dire una cosa iniziale, giusto così per mettere le carte sul tavolo. Non siamo riusciti né io né Cloud a trovare un sito che avesse queste carte. Cioè, eppure il video è uscito undici ore fa. Magic è un gioco che viene praticato da 25 milioni nel mondo. Magic Arena, secondo Wizard of the Coast, ha tipo due milioni di accessi al mese. Di utenti diversi al mese. E quindi già il fatto che comunque con tutti questi numeri comunque non si è trovato un sito dove ci sono queste carte Alchemy. O forse per... Allora, io per pigrizia l'ho cercato poco. Però l'ho chiesto a Cloud e Cloud mi ha detto che non l'ha trovato. Quindi, oh, anche Cloud è pigro e quindi stiamo dicendo una cazzata. Boh, io ho cercato e... Gaggio, se hai un link, per favore me lo riesci a mandare tipo in... O su Discord in privato o in privato su Twitch o su Instagram, dove vuoi Telegram per posta. Perché non ho disattivato i link in chat dopo una brutta esperienza. Sì, Bolt, vale la pena prendere il pacchetto da 15 mila monete perché ti dà 20 bustine più 2 golden pack. Quindi 24 bustine per 15 mila monete conviene sempre. Aggiungo che conviene anche se non giocate Alchemy perché fondamentalmente sono la ruota delle wildcard. Poi c'è anche il discorso che le carte di Alchemy sono legali in Historic. E in questa espansione il power level mi sembra leggermente più alto delle ultime, però poi vediamo. Vabbè, perché le ultime hanno fatto proprio schifo. Madonna. Cioè, le ultime... Però questa c'è una carta che... Già ti dico che c'è una carta che mi sono proprio... Sono rimasto proprio a... Cioè, a bocca aperta. Allora, io non ho visto niente, quindi farò la mia review proprio vergine, vergine, vergine. Allora, Gaggio è mia... Sei tu, Andrea, e non dico il cognome, eh? Vediamo... Sì. Ah, però so, tutte storte su Facebook, cosa, vediamo... Su Facebook ci sono? Ah no, aspetta. Sono tutte? Sono 30. Se sono tutte abbiamo svoltato, grazie al buon gaggio, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, più quindici. Absolutely yes. Allora, evitiamo di... Evitiamo il discorso qui. Evitiamo di far vedere a tutti il mio YouTube. Non più che altro evitiamo di far vedere a tutti quanti il sito di Magic Arena, che non ci paga. A me non mi paga... Allora, a me mi ha pagato Amazon, paradossalmente. Mi ha regalato una webcam Amazon, senza motivo. Cioè, mi hanno contattato... Prendi il portacasa. Mi hanno contattato dicendomi che avevo, in quanto, diciamo, content creator di un mind game, mi volevano fare un regalo. Io pensavo fosse uno scam, invece no, Amazon mi ha mandato la webcam di Elgato. Cosa più... Sono rimasto un po' scioccato da quella cosa. Poi ho capito che... Beh, è comunque buono. No, lo fanno praticamente a campione, a volte, su alcuni streamer di Twitch, fanno dei regali per far vedere che fanno regali. Quindi ho preso e ho portato a casa la mia webcam Elgato, grazie ad Amazon. Quindi, un applauso a Amazon, che mi ha fatto il regalo di compleanno. Allora, è quella che sono da adesso, sì, che comunque costerebbe tipo un centello, una cosa del genere. Quindi, andiamo con la review, andremo in ordine di situazione qua, però il discorso lo volevo fare all'inizio, io, su Alchemy. E il discorso che faccio su Alchemy è che è stato, a parte che io devo tanto ad Alchemy come percorso su Twitch, perché nei fatti ho portato praticamente solo Alchemy per mesi, perché quando era il festival dei midrange, era sicuramente il mio formato preferito e, per i miei gusti, il formato più bello di Magic. Per i miei gusti. Perché era l'unico formato in cui potevi fare dei mirror bellissimi di midrange, che erano delle partite a scacchi meravigliose, dove andavi per micro vantaggi. Paceva moltissimo quel Magic, onestamente. In contrapposizione con il Magic di adesso, dove tutti i formati praticamente hanno soltanto la velocità quasi come caratteristica, è diventato un formato... cioè, tutti i formati sono ormai entro il terzo o quarto turno. Quando un formato ha un tempo del genere, che ne dicano i John Micidi al di turno, è normale che la skill conta meno. È ovvio, si diventa tutti quanti dei timeless, tra virgolette, quindi... Invece, in timeless, le partite durano fino a turno 10. Ah sì? Nonostante... perché non ha preso piede un aggro in timeless? Eh, in timeless c'è Mard, o basta. Bord non c'è più? Eh, vabbè, Mard, Bord. Vabbè, ma scusa, ma che se a D che c'è coso che chiude di terzo pure? Sì, ma è un combo, uno. E poi gli altri... sì, ho capito, se facciamo una partita, non so, dimmi il contro Mard, finiamo dopo domani. Eh, vabbè, però c'è... Nonostante siano due mazzi che si menano, eh? Eh, vabbè, però c'è un combo e chiude di terzo. Eh, necropotenza, cazzi e mazzi, che addirittura... Necropotenza non si gioca più. Vabbè, comunque, ok, vabbè, tu... Timeless, non volevo toccarti Timeless, ti chiedo perdono. Vabbè, diciamo, tutti i formati... Ognuno di noi... Ognuno di noi c'è i propri difetti, a me piace Timeless e Luigi Alchemy. No, a me non... io non so cos'è Alchemy adesso, quindi non so nemmeno se gli piace. Alchemy, attualmente... io l'ho giochicchiato... Eh, dimmi, dimmi. Montando un... Orzov per la gioia di Siramon. Montando un Orzov... Tra molte virgolette control, più tendente al midrange, che praticamente gioca a quattro creature, quindi penso sia un control. E ti dico, è il festival degli aggro, sembra... standard. Solo che ogni tanto trovi Ice, e io l'avevo fatto per battere Ice, quel mazzo, e quindi lo obliteri. Però, per il resto, Selesnia, Convoke, Monored, Gruul... Questo è Alchemy adesso. Cioè, le partite che piacevano a me, come a te, non esistono più. Ma, cioè, è ruotata anche Dominaria, no? Quindi non c'è manco più Sheholdred. Non c'è Sheholdred, non c'è... è Dominaria, non c'è Brothers War, e nemmeno Firex e Marcia delle Macchine. Quindi, proprio tutto quel discorso di Crucius, Rusco... Sì. Quell'altra, come si chiama, il bagaglio, GX, il 3-3 prototipo, che si è giocato comunque in mono nero, e per rimuoverlo in Alchemy poi usavi solo Porcino, perché non lo potevi togliere con nient'altro. Però Porcino c'è. Porcino c'è, perché DL Drain. Comunque, vabbè... Infatti è il motivo per cui ho montato Orzov. Cioè, io sono partito montando Orzov da 4 per di Porcino portento. Ma, infatti, io tornerò su Alchemy, perché comunque è cambiato completamente. Quindi la meccanica Aist non è oppressiva? Sì, è rotta, perché Vongregge è bene aggro. Ok, però il T1 tu mi hai detto che è aggro, non è Aist. Sì, cioè, nel senso... Allora, i tier 1, secondo me, sono Aist e aggro. Poi io ho voluto buildare un'antimeta in ottica Aist, che comunque se la cavicchia bene pure contro aggro. Però, cioè, trovarmi tutte le partite, Monored, Deboros, Selesnya... Eh, Ruttugazze... Scusate il termine, ma... Sì, poi c'è anche il discorso che, essendo un formato poco giocato, non è nemmeno molto profondo. E quindi, chi fa un risultato, poi c'è il net decking che la fa da padrone. Sì, esatto. È un po' il problema di storia. Cioè, praticamente tu... Cinque partite trovi... Boros, barra Selesnya, barra Monored. Tre partite trovi Aist e due partite trovi, come di consueto, il mazzo base di turno. Caro, iniziamo con questa review, direi, perché abbiamo 30 carte da vedere. Parta lei a leggere questa. Il net decking è quando qualcuno copia i mazzi, senza farsi troppe domande. Copia in call, è quello il net decking. Cosa è valido in Alchemy? Bella domanda, Bolt. In Alchemy sono validi e tutte le espansioni standard uscite dopo Phyrexia? Quindi adesso non le elencherò, però, anche perché non me le ricordo. Le l'ho scritte prima. Se vuoi elencarle tu, Cloud. Allora, sono... Quelle valide. Sì, quelle valide. Wilds of Eldraine, Lost Cavern of Ixalan, ovviamente i rispetti vial che mi viene. Sì, sì, poi arriviamo a quello. Dimmi le espansioni standard che non mi ricordo. Wilds of Eldraine, Lost Cavern of Ixalan, poi è finito l'anno... Car of Manor, Thunder Junction. Bloom Barrow e Dusk Morne. E ovviamente i rispettivi Alchemy delle espansioni. E che adesso diciamo cosa sono. Praticamente, accompagnate ad ogni espansione Alchemy, a ogni espansione standard, esce anche una mini espansione Alchemy di 30 carte, due settimane dopo di solito. Due, tre settimane dopo. Che sono appunto le carte che andiamo a commentare oggi, quelle uscite con Dusk Morne. E un tempo in Alchemy entravano anche i set speciali tipo Lord of the Ring, ma hanno capito che era meglio di noi. Io sono più contento anche di questo. Quindi fondamentalmente Alchemy è uno standard che ruota un anno prima, perché ogni due anni e non ogni tre, e che ha in aggiunta delle carte digital only, che sono quelle appunto che escono nelle espansioni Alchemy, come questa che andiamo a trattare. E che apriamo con Effie Fast Learner. La vuoi leggere tu, caro? Sì. Allora, tre mana di cui uno in colore, due specifici Selesnia, creatura leggendaria, umano, e List. Allora, è List per chi non lo sa, praticamente, quando attacchi con questa, attappi un'altra creatura, se vuoi, e il potere della creatura tappata si va aggiungere a questa, molto semplicemente. È una meccanica che non è propria di DuskMorn. No, è vecchissima. E poi c'è Survival. Survival è quando all'inizio della tua seconda main phase, se è tappata, metti un più uno più uno counter su ogni creatura tappata che controlli. Quindi, poi, Sicca ha Survivor Card, quindi un'altra creatura Survivor, con mana value meno o uguale del numero di creatura tappata che controlli. Ok, quindi, fondamentalmente, 3-3 a costo 3, non ha rapidità, però, quando entra, fa già qualcosa. Se la riusciamo a tappare, se la riusciamo a tappare, se per qualche motivo la riusciamo a tappare, nella seconda main phase, mette un più uno più uno su ogni creatura tappata e controlliamo. Cioè, Convoke, ragazzi, sarebbe questa, no? Cioè, gioco questa. E se la Convoke si gioca in Alchemist? Eh, gioco questa, faccio Convoke, ovviamente tappo le, tappo altre. Quello che succede è che lei mette i segnalini e in più mi va a prendere dal mazzo una creatura, quindi mi fa fare vantaggio carte, oltre a fare tanto value. Leggendaria, comunque. Convoke si gioca, l'avevo visto anch'io. Sì, e tra l'altro in Duskmore ne hanno rilasciato l'ottavo Convocante, perché adesso ce ne sono solamente quattro nel mazzo, nel senso che giochi quattro conigli Selesnia, di Bloombarrow, che sono oggettivamente molto forti in quel mazzo. Ah, no, e giochi anche Mara, e poi giochi Emperor, quindi ci stanno robe per tapparle, effettivamente, queste. Poi Emperor non è detto che si giochi. La cerca e la mette in campo, in mano o no? Dice che è sick e quindi se la prende in mano, se la mette in campo. Allora, ovviamente questa è una carta che, cioè, in quella situazione descritta è una carta forte. Adesso non lo so, mi sembra comunque lentina, onestamente. Però fa value e quindi, diciamo, la perdita in tempo, che poi in realtà è un 3-3 costo 3, quindi nemmeno troppo. Però dico, la perdita eventualmente in tempo di gioco la guadagniamo in value. Quindi dico, questa qui a me non sembra malissimo. Poi non so se si giocherà, però non sembra male. Io invece non la vedo benissimo in quel mazzo, perché quel mazzo è molto più simile al convoca che giochiamo in standard, no? Ovviamente è più lento perché non ci sono alcune spell, ma... Di base tu swarmi i conigli, ok? Cioè vai di se les ne abbanni, poi tiri un emmarra di qua, un coniglio quello 4-4 di là e fai value, ma... Cioè queste cose avvengono di terzo turno. Cioè tu turno 1 fai il drop, turno 2 fai un altro drop, turno 3 tiri la spell dei 3 che ti crea 3 token e fai il convoca di... del coniglio 4-4. Qui manca una keyword, secondo me. Convoca. Cioè se anche questa avesse avuto convoca... Eh, se avuto convoca... Perché così effettivamente... Oddio, cioè se tu hai fatto turno 1 forte, turno 2 forte, turno 3, convochi sopra di lei, fai un bordello di value. Io non la boccio... Questa potresti fare turno... Se hai tutti e due pezzi vivi dopo i primi due turni, giochi lei e puoi giocare in mara, ma mi sembra una giocata scarsa. Ti sembra scarsa? A me non sembra così scarsa quella che hai descritto tu. Cioè significa fare un vantaggio importante? Potenzialmente tu puoi fare turno 1 la rana quella 1-1, turno 2 il coniglio, quello che fa da loro... Turno 3, la spell che ti crea 3 conigli, giochi il 4-4 e metti pure un altro pezzo. A me questo sembra un turno più forte. Perché quello te lo sicca in campo. Il sicca in mano però è... Da quel punto di vista lì può essere meglio perché ti fanno vratta e hai fatto value per ripartire. Eh, ma turno 4 c'è solo... Se tu stai under draw... Turno 4 c'è solo no witness di vratta. I grounder praticamente non esistono nel formato. Lockdown non c'è più nel formato. Di che espansione è Lockdown? Dominaria. Di Dominaria Lockdown? Ok. Cioè potrebbero farti però... Quella nuova, Split Up. Ma allora, sì, siamo abbastanza d'accordo. Io non la vedo così male però. Cioè io la vedo comunque una carta che può essere giocata. Ma si proverà. Cioè nel senso non la vedo così sbagliata. A livello dici no, non si giocherà mai. La vedo una carta che comunque può essere giocata. Poi non avendo io giocato Convoke, ovviamente mi fido di più quello che dice Cloud. Quindi se Cloud mi dice che... Poi tra l'altro c'è Jobbo in chat che ha farmato tipo un milione di buste con Convoke. Io penso ho fatto tutta Duskmore, tutta Bloombarro con Convoke. Quindi se voi dite così, per me è così, nel senso non... A leggerla in un opere, essendo leggendaria, boh magari ce la butterei dentro. Però poi togliendo cosa poi non lo so. Quindi... Perché quel mazzo sinergizza bene col fatto che sono tutti conigli. Perché c'è anche il coniglio che ti... Che ti dà offspring a una creatura bianca in mano. Quindi tu puoi fare veramente delle cose assurde con quella roba. E secondo me per lei non c'è... Cioè c'è più che altro quando aggiungiamo una carta dobbiamo capire cosa togliere. Secondo me quel mazzo è abbastanza full attualmente. Si potrebbe mettere magari una monocopia di Emperor o due copie della Emperor nuova per dare X-Proof al 4-4 perché quello c'ha praticamente un bersaglio così in testa. Però boh. Beh direi che possiamo andare avanti. Sì 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 sì. Però cioè non è una carta che si boccia a priori. No no. Cioè poi sapete come la penso io sulle carte nuove. Cioè per me ci sto molto attento alle valutazioni. Allora io diciamo che dato che mi diverte il fatto di dare i voti. C'è anche i storic ragazzi eh. Questa espansione è valida anche nei storic e in Timeless. Però vabbè in Timeless. Oddio. In Timeless giochi un 3-mana 3-3. No questa no. Però poi ne vedremo una che secondo me. Comunque io qui ci do. Per Alchem io comunque do la sufficienza a sta carta. Per formati eterni secondo me non superiamo il 2. Visto che non è giocabile. Cioè non si gioca Boros in formati lunghi. O Nabe e Naya ma questa no. E comunque Boros Convok non sta dietro a Gatti quindi. Sì no ma sai cioè anche in un'ottica di magari poi diventa più forte con voi. Sai ormai sono archetipi che esistono questi no. Certo. E quando entrerà Elfo di Lanovar questa qui non è male. Cioè è quello capite il discorso. Eh non è male. La fai di secondo. La fai di secondo però non la tappi subito. Te la spacca. Vabbè è da vedere. Comunque. Oh se rimuovono un pezzo lo rimuovono. Ma sì ma infatti. Questo è un altro cut down. Come altri. E non c'è cut down nel formato. Ah non c'è manco cut down. Devo veramente fare una riscegherata di Alchemy. Allora Etremic 4 mana. Tra l'altro i disegni di Alchemy sempre sempre a me piacciono. Poi so che sono criticati. Però a me piacciono quasi tutti. Questa tra l'altro si va ad aggiungere ai drop a 3 gold. Che ci sono nei vari colori. Perché li fanno sempre. Legendarie. Drop a 3 con vari colori. 3-3. La famiglia di Crucia. E queste qua sono tutte state forti fino adesso. Ecco perché dico. Prima di bocciarla sto attento. Perché questa fa. Ah tipo quando esce una carta 3 mana Simic. No queste. Ah ok fermi tutti. Cioè no perché loro fanno proprio sta famiglia qui. Se ci fai caso hanno fatto proprio sempre sta famiglia di carte. E sono tutte forti. Eh ma le altre erano Crucias, Rusco e Jarsil. No c'è stata anche quella lì Boros che metteva i Nani. Che è stata meta in Alchemy. E all'inizio nessuno la cagava. Ecco perché dico. Quando vedo una gold leggendaria. Solitamente queste carte poi si rivelano forti. Ma andiamo avanti. Creature leggendari. Illusione e bestia. Quando entra. Se tu non controlli altre creature. Fa Manifest Dread. Questa è meccanica di Ascomore. Questo vuol dire Manifest Dread. Vedi le prime due carte del mazzo. Scegli ne una che diventa un 2-2 a testa in giù. Se quella carta è una creatura la puoi girare. Con il suo costo di mana. Quindi è una meccanica forte. Ti fa vantaggio carte. Le altre creature controlli sono. Prendono più uno più uno. Fino a che tu controlli un'altra creatura. Questa qua non può né attaccare né bloccare. È un leggendario 5-5 a costo 4. Doppio specifico. E a me non piace. Nemmeno a me. Mi espongo. C'ha troppi sé. C'ha troppi sé. Poi non ho capito. È da control? Non mi pare. Però se è da aggro. Che facciamo? Dobbiamo stare solo con lei nel campo di battaglia a turno C. A turno 4? Non capisco. Fa da lord ma tardi. C'è di meglio. Ma fa da lord. Sì fa da lord. È vero. Fa da lord soltanto se... Però fa da lord ma lei non può attaccare. A quel punto c'è gioco direttamente dall'archetipo. Non lo so. Ma guarda. Ci sono. Dato che... Bloom Barrow è stata un'espansione tutta basata su... Famiglie diciamo. Ci sono un sacco di lord dici? Eh no. Allora a parte quello... Cioè ci sono queste... Tutti tribali sono. E si gioca ad esempio Topi. Eh sì. Boros Topi. E Boros già ce l'ha il lord a tre mano. Ma questo in Boros Topi non entra. Eh ma... Sto prendendo tutti gli archetipi che si giocano col bianco che suorvano creature. Boros Topi no. Conigli no. E' troppo lento. E poi basso. Pipistrelli già ce l'ha il lord perché usi quello dei... Come si chiama? Dei... Sì sì vabbè ma ci siamo capiti. Una mitica strana. Qua io il voto per Alchemy a me sembra strana. Do quattro anche per Alchemy. E vabbè e do uno formati eterni. No lo so mi sembra strana. Ok che fa... Quando entra fa due per uno. Ma non devi controllare... Quindi già l'enter the battlefield si attiva se c'è una condizione. Se non avesse avuto condizioni già l'ha il vibe almeno faccio due per uno. E invece così... Così mi sembra proprio... Una mitica abbo. Poi anche leggendaria. No direi che non ci siamo. Il meta che c'è mi piace di più giocare Bezza banalmente. Leggiamo anche le uncommon perché in Alchemy a volte sono belle. Poi se leggendole mi rendo conto che è le switch. Allora costo 2-3-2 survival. Quando sopravvive... Quando arriva la seconda main phase. Se è tappato. Questa creatura è la creatura top del mio mazzo. Senza volare. Perpetualmente prendono volare. Piccolo tool per i limited. Allora... Un bel troppo a 2. Non ha l'enter the battlefield. Boh. 3-2. Allora attualmente le carte che entrano e non fanno niente non esistono in Magic. Cioè... Questa c'ha le stesse statistiche di Harvester per... No andiamo avanti. Andiamo avanti. Il problema è che Harvester ti faceva qualcosa. No ma questa non ha nemmeno senso di... Cioè io penso di da limited. Cioè devo giocare su troppo a 2. Che comunque sì. Se poi è tappato però... Cioè mi da volare a un'altra. Secondo me è proprio fatta per il limited. In limited è rotta. Eh sì. Limited è fortissima. È molto forte il limited. Anzi è una... Questa sarà una dei force pick secondo me del bianco il limited perché... Eh di Selesnya. Sì. Ma di qualsiasi... Cioè perché ti fa schifo in Boros. Un 3-2 troppo a 2 che... Se non lo togli ti da volare a quella che c'è... Eh... Boros ragiona sulle creature con potere 2- in limited. Vabbè però non è che non vuoi giocare altre cose. Cioè questa che fai? No no certo. Se stai facendo Boros e non la giochi e te la trovi che fai? Non la prendi? No no certo certo la prendi. È una bomba questa. Allora. Questo è un altro troppo a 2. Umanocle... Umanochierico. 2-2. Un orsetto no? Come si dice in Magic. Anche se gli orsetti non hanno testo. Questo ne ha un sacco. Le spell incantesimo che casti hanno Convoke. Molto interessante. Quando un incantesimo ai controlli entra e quando tu hai sbloccato una stanza... Congiura una carta chiamata come questa qui. Cioè quindi una copia di questa fondamentalmente nella tua mano. Scartala all'inizio della tua prossima next step. Beh. A me questo non sembra male. Nemmeno a me perché mi posso fare... Triple Mice Go Convoke. Insomma. Che dire. Ma non solo. Ma anche Porcino. Anche le line binding. Che non c'è in... No però c'è in historic. Io questa la sto già vedendo per formati più lunghi questa qua. Questa è bella eh. Aspetta. A novembre arriva Omniscience. Dice Pomodoro giustamente. A novembre arriva Omniscience eh ragazzi. E infatti con Omniscience è forte. Questa è forte in... Cioè ecco perché la soggia in magia... Per me questa è in Alchemy è rotta. Te lo dico già. Ma lo so... C'è un problema Luigi. Nei formati eterni. Qual è? Che ci sono gatti e cazzi e mazzi. Ehm. Banalmente tuteleremo per il costo 1 del gioco stand in historic. Che la levano. Ok. La levano ma tu le priorità. Allora io casto questa. Metto sul campo di battaglia. Non do la... Non può farvi fatal push. Posso castare Omniscience? Quante... Eh. Dobbiamo avere 10 creature per castare Omniscience. Eh ma vedi che Boros Convoke ci arriva. Ecco perché ti sto dicendo. Occhio. Perché questa qua. Non è da sottovalutare. Poi magari non è forte. Adesso ti smondo un attimino il seguito. Vabbè. Boros Convoke non può giocare Omniscience. Su questo siamo... Esatto. Boros Convoke 4 per di Omniscience. È come avere quattro le line in mano. No esatto. Non mi serviva la specifico ovviamente. Però io ho questa... Cioè mi pare faccia una cosa forte. Poi il fatto della stanza nemmeno te la leggo. Perché vabbè. Però il fatto che le spell incantesimo hanno Convoke... Boh non lo so. Oppure che hai quattro creature con lei. Sconti di quattro Omniscience. Boh. Secondo me non entra in un archetipo con Omniscience. Sì per dire... Per castare Omniscience c'è i modi più efficienti. Allora. Banalmente la terra di... Facciamo un passo indietro. Questa non si gioca con Omniscience. Così Claudio non lo dice 20 volte. Lo sappiamo che questa non si gioca con Omniscience. Però è per dire l'incantesimo fortissimo. Che può essere che ne so. Il costo 5. Il costo 6. Cioè con questo lo fai a 2. 6-4 creature. Capito? Sì. Se io quello sto dicendo. Io la vedo più per fare dei micro vantaggi. Che per fare queste cose mirabolanti. Cioè ad esempio gioco lei. Gioco un altro drop. Posso fare triple emice. Pure se sto full cappato. Esatto. Cioè io la vedo per quelle cose là. Cioè la vedo più utile in un mid range. Cioè questa con un drop a 2. Para. Sta là. Intanto ti sei fatto coso. Ti sei fatto triple emice. Mettendo comunque altra board. E poi fai le porcherie con triple emice. E metti porcino. E metti la virtù nera. Magari anche con Convoke. In quel caso ti dico sì. Perché comunque la virtù nera è una carta forte. Vedi che ci sono tante di incandesimi forti. Anche quella bianca puoi mettere di virtù. Ad esempio. Cioè è quello che ti voglio far arrivare lì. Poi magari non si giocherà. Però ti volevo portare lì. Cioè Convoke. Quindi anche. Cioè hanno tutte Convoke. Quindi vuol dire che le puoi castare senza mana. Se hai delle creature. Capito? Sì. Però come ti sto dicendo. La vedo più in un arcade tipo più mid range. Che vuole fare delle power play. Perché questa. Con virtù bianca è rotta. È letteralmente rotta. Perché virtù bianca ti stappa pure le creature a fine turno. Cioè tu hai fatto l'inferno. Perché cominciate a fare questa. Ad esempio. Hai già triple Mice. Hai già attivato la combo. Ok? Quindi hai vinto. Quindi hai vinto. Però. Non basta a volte. Quel cavolo di Monored. C'ha delle creature 50-50 Trampol. Cioè Psyche. Quindi metterci. Metterci una virtù bianca. Non è brutto. Nel mazzo. No. Lo gioco. Io infatti. Io infatti ne gioco. Ne gioco 4 di virtù bianca. E più 2 nere. Allora. Penso che il messaggio di Job. Che mi trovo d'accordo. Ma senza palegge Sky Stans. Quelle mi sembrano cose. Ambiziose. Come Fermate Eterni. Perché io sto pensando lì. Allora. Questa secondo me. In Alchemy. È forte. Se trova la casa. Però è una carta molto forte. Secondo me. Questa qui è forte anche. Si rivelerà forte. Che sia adesso. Fra un anno. Fra due anni. Fra tre anni. Questa qua. Secondo me. Si andrà a rivelare forte. Pure. Ultimatum. Sì. Qualsiasi cosa. Però è anche vero. Che quando giochi Ultimatum. No Ultimatum no. Non è incantesimo Ultimatum. Non è incantesimo. Però ce ne sono di incantesimi forti. O potrebbero essercene. Di incantesimi forti. Anche per aggro. Ma già ci sono incantesimi forti. Per aggro. Quindi anche. Invasione di Solbacan. Non è un incantesimo però. Di Golbacan. Non è un incantesimo. No. Quella è una battaglia. Però. Ti dico. Io questa qua. In Alchemy. Devo dare almeno sette. Sì. In Alchemy è forte. E io ti dico. In Formati Eterni. Io. Io gli do la sufficienza a questo. Perché. Magari non adesso. Ma fa una cosa che non c'è nulla. Che. Cioè. Questa roba qui. Non la fa nessuno al momento. L'unica cosa. Degli incantesimi. Che. Il fatto è che. Lo puoi fare molto più semplicemente. Con la spell. Con la terra a quattro. Di Modern Horizon. Cioè. Tu giochi. Fai un mille. No. Quello che si gioca. Un grul. Che si milla da solo. E di terzo. Barra quarto. Fai omniscienza dal cimitero. E castigli. E il drazzi dalla mano. O. Emrakul. Che attacca. Eh. Ulamog. Che attacca. E wipe a bordo. Ma infatti. Questa per me. Non c'entra con omniscienza. Cioè. In historic. Secondo me. Non. Non ce la fa. Ma in alchemy. Assolutamente sì. In alchemy. Questa potrebbe. Potrebbe essere. Una bella carta. E io mi trovo d'accordo. Sul sette per alchemy. Cioè. Anche quello che ha scritto un anni. Puoi giocare. In cantesimo. Come bombardment. Rituale a turno due. Insieme ad aggiani. Assolutamente sì. Non puoi. Perché. Perché. Ti serve il rosso. Comunque. Sì vabbè. No vabbè. Creatura rossa. Questa. Cioè tu metti. Creatura rossa. Fai turno uno. Alla key witness. Turno due. Aggiani. No. Turno due. Questa. No. Turno due. Fai questa più bombarda. Cioè. Lo puoi fare. Sì. Capi. Cioè. Ecco perché ti dico. Vedi che questa roba qui è forte. Cioè. Poi magari. Luigi Monte mi deve convincere che una carta nuova è forte. No. Io ti devo dire. Allora. Io ti devo. Ti sto cercando di. Di sintonizzarti con delle linee di gioco. Poi possono essere scarse. Però sono opzioni forti. Cioè. Il fatto è di fare. Di secondo. Creatura più bombardment. Magari poi non è quello. Cioè. È una roba forte. Capito. E' uscita qualcosa per Archemy. Con questi microvantaggi. Poi. Soprattutto perché te ne crei un'altra. C'è un altro pezzo da. No. Solo se sblocchi l'istanza. No. Quando un incantesimo entra. Ah. E' vero. Anche quando un incantesimo. Madonna. Madonna. Ecco perché ti dicevo. Triple Mice. Con la combo. Io rialzo. Io alzo il voto. Sette. Otto in Archemy. Sei e mezzo. Con i metri eterni. Perché con Triple Mice. Questa c'è in esercito. Perché tu fai. Infiniti Triple Mice. Più. Infiniti di questi. Se ce l'è in campo. Io alzo il voto. Io alzo il voto. Questa. secondo me è forte. Oh e poi lo sapete. Ragazzi lo sapete. Mi conoscete. Alcuni di voi mi conoscono da. Da un anno. E più. Cioè lo sapete che le carte noi fanno sempre schifo. Ma questa. Non si può di niente. No no. Cioè qua lo fa. Anche questa qua è rompibilissima. In cento modi diversi. Ma pure. Vai tranquillo. Che pure fuori Archemy. Cioè questa è la classica carta da Alteriax. Tra l'altro. Sono un amico Alteriax. Questa è la classica carta da Alteriax. Vedremo. Vedremo. Tottero di primo. cooldownato a questo bombardment vinta. Madonna. Che cos'ha. Cioè. Esatto. Tottero. Vedi che puoi fare delle cose schifose. E tra l'altro. Ma eh. Ragamo. Oggettivamente non serve di mettere un troppo a due. No no. Vabbè. Sì però capito. Cioè tieni conto che lo devi. Cioè lo devi. Lo devi valutare. Per il fatto che comunque hai messo un 2-2 a costo 2. Quindi non è che hai messo un 1-1 a costo 8. Cioè stai giocando una carta che è nel tempo. Quindi è. Quello anche mi fa valutare. Me la fa valutare bene. Ciao Gesù. Comunque sì sì. Anch'io la promuovo. È che io purtroppo. Cerco sempre di vedere i lati negativi più che quelli positivi. Perché una volta che una carta supera i lati negativi significa è buona. Secondo me fai bene ragionare così. Se vediamo solo i lati positivi ci perdiamo tutte quelle cose che poi caratterizzano il gioco di Magic. Ovvero GX. Carta che sulla carta è fortissima. Non ha mai trovato chissà quanto gioco. Quindi occhio a valutare le carte. Però questa promette bene. Nel mio orzo ve ne metto 4. Te lo dico subito. Quindi vabbè diciamo possiamo andare avanti. Questa a me piace. Quindi questa qui già ve lo dico che mi piace. Questa vi dico già che non mi piace. La leggiamo. Anche se è stata un po' la copertina dell'espansione Alchemy. Solitari stati. Le creature che controllano prendono più o più zero. Che a costo due è una cosa che esiste. Stra esiste. Sono esistite carte così nella storia. Che non sono mai giocate in costruito. Cosa succede se la sblocchiamo? Quando la sblocchiamo. Congiura un duplicato di questa carta nella tua mano. Quando lo fai. Una creatura avversale dei controlli. Pende for strike. Fino alla fine del turno. Secondo me non basta. Secondo me non basta. Nei mazzi più aggressivi c'è il caso. Secondo me questo non basta proprio. Non ce la fa. No perché nei mazzi più aggressivi c'è il caso che fa removal. Attacchi con tutto. E c'è lo stesso effetto. Solo che ha fatto qualcosa in più. Next. E tu vuoi comunque attaccare. Next. Io però non capisco perché stampano ste carte in Alchemy raga. Non ho capito perché le fanno rare ste carte. Convoke vale anche per sbloccare la room. Le room. No perché dice al cast. Dice che le spell che i casti hanno con Voke. Quindi no. Questo poi è un attivata. Non è un cast. Quindi no. È un attivata no? Quando sblocchi la stanza. Sì perché la paghi dopo. Ok. Iniziamo a parlare un attimino di cos'è questa carta. E qui c'è anche da fare un discorso sulla color pie di Magic. Housemeld. Quattro mana sorcery. Remove al sorcery. Vi ho sempre detto che a me fanno schifo. Però leggiamo questa. E vediamo il colore di questa. Esilio la creatura a bersaglio. La carta esiliata in modo perpetuo diventa un incantesimo. Quindi per sempre. Dopodiché la rimetti sul campo di battaglia. Quindi enter the butter. Fill sotto il tuo controllo. Perde tutti gli altri card type. Il blu non dovrebbe avere removal di base. Questo è un removal blu. Questo è un removal blu. Ange è abbastanza forte. Questo è un removal blu che ti dà un pezzo che ha l'enter the battlefield. Atraxa di turno. Atraxa è il caso God. Che non è legale in Alchemie. No Atraxa. No. Era in Figexia. Quindi è uscito. Però ci stanno. Ma sì. Ma ci sanno e ci saranno. Grenzo. Sì. Grenzo. In grandesimo. Chi te lo leva? A parte con Porcino. Ma devi fare i salti mortali. Sì ma Grenzo non fa cose quando attacca o connette? Eh no. All'inizio del turno. Esatto. Ti fa all'inizio del turno. Eh cavolo. Esatto. Esatto. Grenzo. Banalmente. Poi ci saranno altre creature. Shielded è ruotato fuori. Però Grenzo è più forte anche di Shielded. Detto ciò. È Sorcery. Eh. E soprattutto il blu. Questa la giocherà Aist. Se la gioca. Ma Aist gli serve sta carta? È l'unico mazzo che gioca il blu più che altro. Vabbè lascia sta quello che si gioca adesso. Io questa me l'immagine in un mazzo che non ha accesso alle rimozioni vere. Fino adesso. E adesso ce l'ha. Perché magari il giocatore blu. Perché magari che ne so è un big blu. Cioè da forza i contro. Concordo. Secondo me non è da Aist questa qua. Perché Aist c'ha Go for the Trot. Che non so se c'è. No non c'è Go for the Trot. Vabbè. C'è tutti gli altri. Però ci stanno. Ci stanno. Show the Sheriff. Ci stanno le carte. Questa per me non è da Aist. Questa può essere da un mazzo tempo mono blu strano. Lo so. Azorius. Però cioè. Bella. Cioè a me piace. Poi non lo so. Fermati lunghi no. A me di solito. Quattro mana sorcery in blu. Mi pesa. Sì. Leggila così però. Quattro mana sorcery. Ti tolgo un pezzo e me lo prendo io. Sì sì. Ma infatti dico. Di solito mi pesa. Questa non so se mi pesa effettivamente. Perché comunque mi prendo qualcosa che mi fa vantaggio. Quindi è una giocata da vedere in quel senso. Non hai troppi target. Ad esempio un tempo questa sarebbe stata devastante contro Rusco. Leggo un po' di commenti. Più che altro. A essere una bisogno dice Jesus. Dice Mimikio. Più che altro può essere che se la fai sulla tua creatura per fare una combo. Wow. Sì. Certo. Anche su una tua stessa la peggio lo puoi fare. Che combo però non lo so. E su chi? Non lo so. Però è un'eventualità. Poi non ha senso ragionare solo su quello che c'è. Perché poi ste carte magari uscirà altre cose. Quindi più che altro anche per chiacchi che è costo. Quattro mana rimane aperto di Incantesimi Lampo Aist. Però in Astro non ce la vedo io. Ma lo Blue Tempo esiste in Arkham. Per il momento no. È uscito Jin dall'Arkham. Quindi non credo. Triggera tutte le carte con Eire. Giustamente. Questa carta fa paura per un discorso di controlli. No. Che è historic Nanni. No. È un historic questo. Poi ovvio che adesso io non lo so se è stato già detto. No. Cioè non lo so chi si è espresso su ste carte. Un removal l'istorica a quattro mana sorcery. Cioè bisogna essere tipo. Non si gioca The End. Vabbè The End fa schifo. The End però ti rimuove pezzi e fa surgical. E non si gioca. The End fa schifo. Questa è pure sorcery. No non la vedo dai control. La vedo da un mazzo mid tempo. Può fare delle cose. Non so se giocherà. Peccato non sia instant. Forse avrebbe stato troppo. Forse avrebbe stato giusto. Non lo so. Sorcery mi lascia dei dubbi. Se si gioca o no. Quattro mana la potevano fare pure instant. Quindi ti dico. Io qua. Sì a T4 in historic è finito. Quindi. Qua io ti do. Cioè ti do un. Perché non è esiliata permanente. Anche permanente non terra. Poteva essere figo. Vabbè. Comunque. Perché succedeva l'inferno con. Con il. Il. Coso bianco. Quella tremana. Dai. Hai capito. Ho capito. A parte con. Con. Topini. Che tu facevi su Topini di Oppo. O te lo facevi da sole. Cioè l'ennesima scombata. Per Topini. Topini di Oppo. Chi se ne frega se te lo fai tu. Se non hai il mazzo per farti il token. Vabbè. Ho capito. Questo qua. Divendono inchantment. Vende un attimo. No no. E anche. E anche con. Kertager Talent. Poteva diventare problematica. Sta carta. Meglio così. Non la vedo. Che gioco. Kertager Talent. Non l'avrei vista. Così problematica. Da ban. Anche se fosse stato. Esilia. Target permanent. Però va bene. Cioè. E creatura. Ripeto. Se lo do in Alchemy. Formati lunghi. No. Io non so se ho freddo. Devo andrermi a cambiare. Semplicemente la felpa. Questo è troppo pesante. Quindi diciamo. Sei. Alchemy. E do. Non lo so. Formati eterni. Voto basso. Però non lo so. Ti faccio leggere quella dopo. E iniziare a commentare. L'arrivo subito ragazzi. Madonna. Santa. Allora. Sei ma. Di cui tre specifici blu. 7. 7. Impending. 4. Vabbè. Quindi. Voi tirate. Come sapete. Però. Rinfresco la memoria. A chi. Non lo sa. Voi la pagate 4. Lei entra. E fa. L'effetto. E. Poi dopo 4 turni. Ce la. Ce la avete in campo. Come creatura. Quando entra. Attacca. Sicchi una. Non land card. Quando sicchi. Una. O più. Carte. Durante il tuo turno. Congiuri. Un duplicato. Di ognuna. Di queste carte. Nella tua mano. Poi manifestate. Poi manifestate. Questi duplicati. Minchia. Eh. Non è brutta. Questa. Va visto un attimo. Il blu. Come si giocherà. In questo formato. Ma. Non è brutta. Secondo me. Comunque. In Alchemist. Sicca parecchio. Vabbè. Questa si gioca. Quattro. Sì. E' già forte l'effetto. Quando si chiuna più. Cioè. Questa fa vantaggio carte. Questa. Quando entra. Ti fa due carte in più. Con occhio. Questo è forte. Occhio non sicca. Per me. A me sembra forte con tutto. Non solo con occhio. A me sembra forte da sola. Cioè. Alla fine. Questa. Entra. Ok. Entra. E ti fa due. Ti dà due carte indietro. Se non ho letto male. E praticamente peschi due non terra. Esatto. Quattro mana. E senza pescare. Peschi due carte uguali. Senza pescare e non terra. Poi incidentalmente. Dopo quattro turi diventa un 7-7. Dopo. Aspetta. Poi manifesta anche. Sì. What? Fai un vantaggio assurdo. No. Aspetta. Devo rileggerla. Quando poi sicchi uno più carte. Durante il tuo turno. Quindi lo fai una volta quando entra. Congiuga un duplicato. Dopodiché. Ah. Quel duplicato lo manifesti. Non te lo metti in mano. Diventa un 2-2. Ho capito però. No. No. Non dico che sia scarso. È solo per spiegarla meglio. Fa board. Cioè. Una te la metti in mano. E l'altra è il duplicato. Però l'avversario non sa cos'è. Perché è manifesto. Ragazzi. Che deve fare una carta? Per essere giocata in Alchemy. 7-7. Per rompere il gioco. Dopo 4 turni. Questa qui diventa un 7-7. No. Ma più che altro. Non è tanto. A me non me ne frega niente. Poteva essere pure 1-1. È quello che fa già quando entra 4. Ok. Però diventa anche un 7-7. Cioè. Poteva essere 1-1. Ma questa qua sarebbe stata forte. Pure 0-1. Cioè. Bella. Cioè. C'è una bella differenza. Però no. Ah beh. Certo. Da questa e questa. C'è una bella differenza. Di mitiche. Eh sì. Vogliono tirare su il blu. Visto che non si gioca. Vogliono tirarlo su il blu. Cioè. Visto che su set così piccoli di carte lo possono fare. Vogliono tirare su il blu. Mh mh. Questa può essere convocata con quel famoso. Con il famoso drop a 2 che dicevamo. Mh mh. 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 Ma in Archie i fagioli ancora dentro. Mi sa che fagiolo è uscito. Ah sì sì. Quindi si è dentro. No no. C'è dentro. E questa fa. Incidentalmente fa pescare pure fagiolo. Comunque sì. L'Eunam. Sì è molto più forte di quella blu. Che c'è in standard. Ma perché quella blu è una busta. Di carta. Si gioca in un mazzo in Pioneer. Ma perché semplicemente ti fa pescare. Che vi devo dire ragazzi. Questa per me in Archie mi è. Un 8 pieno. È fortissimo. Tendente all'8 e mezzo. Tendente all'8. Lo facciamo tendere all'8 e mezzo. 8 più tendente all'8 e mezzo. C'è solo da capire. Cioè se il blu redge. Il lagro del. Il blu redge. Mono red. Cioè ma è quello. Ma è solo quello guarda. Perché comunque. Non ci dimentichiamo. Che questa carta è un 4 mana passo. Cioè un 4 mana faccio un 2 e 2. Sul board. Quindi comunque. Cavolo. È una tempo loss importantissima. Quindi. Io dico un 8. Diciamo 8 dai. Non 8 e mezzo. Un 8. Un 8 dai. Però è forte. Cioè è forte. Sì è forte. Però ecco. Ma è un vantaggio. Ma visto un attimo il meta. Se condividi così agro non ce la faccio. Esisterà un caso. In cui tu puoi permetterti. 4 mana faccio un 2 e 2. Chissà. Dipende come si sta. Come si fa. Si evolve il meta. Perché se il meta si evolve. Come era Alchemy. Prima di Heist. Ti dico sì. Se è l'Alchemy. Che conosco io adesso. Non credo. Perché. Banalmente. Boros. Ti apre come una cozza. Ma Boros. Non penso che. Che vi avvii qualche carta. Ormai il mazzo è quello. No no. Boros. Ti apre nel senso. Cioè. Tu giochi contro Boros. Fai 4 mana passo. Lui dice. A. Eh sì sì. Boros ha definito il tempo del formato. L'aggro definisce il tempo del formato. O il combo definisce il tempo del formato. In questo caso. Aggro ha definito il tempo del formato. Che è un turno 4. Questo è un turno 4. Historico. Ovviamente. Non è una carta da formati eterni. Questa. Per ovvi motivi. Perché. Non esiste. Un formato eterno. 4 mana. In cui puoi fare questa roba qua. E. Quindi boh. In Archemy. Molto forte. Occhio che pensando. Ci si possono convocare anche gli altri impegni. Certo. Ma infatti. La carta di prima apre un sacco. Per me. Fino adesso. Questa. Non so se sarà abbattibile. Non l'avevo letta. Avevo letta l'altra. Che mi piace. Questa l'avevo letta. Questa sarà difficile e superabile. Per me. Poi vi dico il mio primo posto. E vi dice il primo posto pure Cloud. O il podio. Come ci arriviamo alla fine della. Dobbiamo vedere le altre. Però per il momento. Questa per ora è fortissima. Glimmer. Order. 2-2. Costo 2. Anche qua. Survival. Quindi. Survival. Deve arrivare alla seconda main phase. Se è tappata. Perdi una vita. E drafti una carta. Dallo spellbook di questa. Ora. Adesso gli spellbook. Non li abbiamo. O se ce li abbiamo. Non sono qui. Quindi facciamo finta. Che siano forti. Che sia forte. Lo spellbook di questa. Perché. Sennò. Sarà forte. Sì. Tipo. Necropotenza. Dark Ritual. C'è un modo di trovare. Lo spellbook di questa. Boh. Vabbè. Comunque. Non lo so. Comunque. Ci sarà una rimozione. Ci sarà una rimozione. Almeno. È nero. Quindi. Vabbè. Perdi una vita. Traffi una carta. Sì. Cioè. Nel senso. Sono incantesimi. Ok. Ma c'è mica c'è Necropotenza. Mo scherzi a parte. Magari. No. Cioè. Perché cambia. Poi. Cioè. Se c'è Necropotenza. Cambia un po' la valutazione. In realtà. Luigi. Ti dico. Secondo me. Necropotenza. In Alchemion. Suicido. No. Però. Per dire. Cioè. Cioè. Secondo me. Necropotenza. In Alchemion. Una carta scarsa. Sì. Però. Vorrei sapere. Se c'è. Cioè. Che tipo di power level. Di incantesimi neri. Ci sono. Cioè. Che so. La virtù. Cioè. Per capire. Che tipo di roba. Può uscire. Se Job lo sa. Comunque. Death card. Perpetually. Becomes. An enchantment. In addition to its other types. Quindi potrebbe essere. Anche una creatura. Banalmente. Potrebbe esserci. Scioltre. Là dentro. Per quello che ne sappiamo. Hanno detto. Qualcuno ha detto. Che sono incantesimi. Ah. Anche se poi dice. Diventa un incantesimo. Mi sembra strano. Eh. Capito. Potrebbe essere. Pure una creatura. Che tu dici. Vabbè. Ci trovo scioltre. Vabbè. Se qualcuno. Poi la trova. La mette sul disco. Le vediamo. Per il momento. Lasciamola in sospeso. Però non sappiamo. Cosa può prendere. Perché non ci è dato. Saperlo. Eh. La pure del ridicolo. Molto interessante. Molto bella. Questo. Il concept. No. Qui c'è. Che è un attore. Che cos'è lui. Che ha pure di essere preso in giro. Dagli altri. Tipo. Incubo. 2-3 costo 3. Non si può dire. Sotto cut down. Perché cut down. Ha salutato. Alchemy. Facendo le valigie. E prendendo il primo volo. Per lo standard. Per l'only standard. Le creature incantesimi controlli. Hanno minacciare. Quando uno più creature incantesimi controlli. Fanno danno di combattimento a un giocatore. Esilia una creatura random. Da quel. Dal mazzo di quel giocatore. Così. Crea un token. Che è una copia di quella carta. Eccetera eccetera. Pappappappà. Inutile no? Lei. A minacciare? Sì. Drop a 3-2-3 che è a minacciare. Interessante. Questa. Sono. Allora. Non mi sembra fortissima. Ma sono sicuro che ci perderò contro una quantità di partite indicibili. Allora. Ti posso dire che lo spellbook di quella lì fa schifo. L'unica carta rilevante. È il 4-4 di. Che si giocava in. 4-4 che ti fa il casino col cimitego con quel mazzo lì che non mi ricordo come si chiamava. Dove l'hanno pubblicato? I spoiler. Però vabbè per. Vediamo se riesco a farlo vedere a tutti. Salva immagine. Desktop. Ah ok ma quelle sono tutte. Quella carta è con questo sinergica per quel mazzo. Ve lo metto qua no ragazzi. Questa roba qui è lo spellbook. L'unica carta decente più o meno. È questa. Dello spellbook. Più o meno. Però molto più. Molto meno che più. Poi le altre non mi sembra roba che si stravolge. Questo non so cos'è però. Non mi sembrano tutte scarse. Siamo tornare alle attività. No disco devo portarmelo di qua se faccio un casino. Come faccio a portarmelo di qua così. Bene. Ok. Quindi questo è. Questa a me non piace. Te lo dico già. Un attimo che ho la live in ritardo. No c'è quella lì che stavi commentando tu. Due tre. Ah. Bah. Pure a me. Cioè. Statistiche stiamo sotto. Ma che serve questo? I creatori incantesimi. I creatori incantesimi ci stanno. Ho capito ma. Cioè. In un mondo in cui le carte entrano e fanno schifo. Questa deve connettere per fare una cosa talmente random. Magari ti congiuga un 1-1 che è un topo che a te non serve. È quello. Cioè contro Boros tu fai questa sei morto. Voto 4 e Zego. Sì sì sì. Razor Demon. Oh bello. 3 mana 7-7. Dai lo voglio proprio leggere. 3 mana 7-7. Da nulla. Quando casti questa spell target Oppo le drafta una carta. Ecco Jobbo. Dacci pure sto spellbook di questo. Se ce l'hai. Mo qua ci sta Dark Creed, Val, Necropotenza, Grif, Troll di Casadoo. Praticamente io casto questa carta Oppo può craftare la carta allo spellbook e qua ci serve capire sto spellbook qual è perché diventa tutto il concetto della carta. Perché lui quella carta la può castare senza pagare il costo di mana. Allora sicuramente ci saranno dei removal. Però. Spero. Però World scarta una carta. Eh ho capito. Quindi sto giochino è un 2 per 1. No, non è un 2 per 1. No, è un 1 per 1 perché la carta gli è elettata a tu. E tu hai perso tempo e lui no. Perché lui la può castare senza. Insomma. Perché tu hai perso 3 mana e lui non l'ha persi perché la può castare senza pagare il costo di mana. Esatto. Poi dipende che ci stanno dentro lo spellbook. Se ci sta, non lo so, titano nero, carte scarse, me ne frego. Però, cioè, in realtà questa non la devi castare. Questa è da Reanimator. Oddio, cosa ho appena scoperto. Questa la rianimi con la spell che rianimi occhio. Potrebbe andare pure questa per rianimare. Non c'è in Alchemy. Non c'è in Alchemy. Eh no. Però c'è... Oddio, sì, 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 è di X. Però c'è Anert in Historic. Ma c'è su... No, scusi. È di X la... Ragazzi, ragazzi. Quindi c'è quella bianca. C'è Anert in Historic. Sì, ma... Anert mi rianimo Grisfang. No, no, mi rianimo questo. Comunque c'è in Alchemy una cosa. Messa e spoil, vediamo... Vediamo lo spellbook di questa. Madonna. Queste tre sono... Che schifo. Tre carte. Non c'è una rimozione. No, però... Quella e mezzo è pericolosa, eh. Quella e mezzo, ho capito, va bene. Però non c'è una rimozione. Questa è resuscita dal cimitero due creature. Eh. A gratis. A gratis. Vabbè, però... Questa non... Io... Sapete che io so bene il giapponese. Qua c'è scritto... Questa carta non è una rimozione. Ve lo dico io. Qua dice quello che abbiamo detto. Qua dice... Questo è un incantesimo. Che ogni turno scegli uno. Aspetta che non mi ricordo. Ah, ok. Scegli uno a tua scelta. Quando finisci tutto quello che hai scelto, perdi la partita. Dice questa. Quindi, sì. Questa qui, praticamente... Se finisci le opzioni, perdi la partita. Ok. Interessante. Ma, allora... A me non sembra nemmeno brutto castarla, visto queste carte. No, no, ragazzi. Questa è da Rianimator. Questa è la carta più forte del... Stampata in Magic nell'ultimo anno al momento. Dopo Attrax. Cioè, questa la rianima... A NERT la rianima, questa. Sì. Questa è la Rianimi con la NERT. La Rianimi con la NERT e la Rianimi pure con quella bianca di Ixalan. E poi... Devi averci a che fare con un 7-7 che vola... Con Ward scarta una carta. Blank di Iskard. Sì. È proprio questa la mia paura. È devastante questa. Tu ha Ward scarta una carta e tu gli stai dando un Rianimino. Luigi, guarda il messaggio. Scusami, caro. Questa è più quell'incantesimo e hai fatto il mazzo. Qual è l'incantesimo? Angel of Suffering Afemia. Dei cacafoni. Non so cosa sono... Ah, quelle carte dello spellbook. Ok. Fermi, fermi. Questa però è il demone a costo basso. È vero! Il famoso demone a costo basso. Di Demonic qualcosa. Ah, ok. Il famoso demone a costo basso. Ma secondo me non serve nemmeno quella roba là. Questa, con la nerd l'hai reanimata, raga. Questa è forte, punto. Ma in un esper? Che c'è Ranella della Scart e turno dopo Rianimino? Ma dove cazzo vuoi? In storico. Cioè, questa è forte. Questa te la devi mettere nel cimitero e poi te la devi reanimare. La domanda però sorge sempre... Cioè, è sempre quella, eh. Ce la facciamo a Battemardo. Oh, se ne sveaure. La domanda è... John Micidial. La reanimerà di secondo. John Micidial. Primo o poi, da qui a un mese. Scriverà su Discord che questa qui la reanimi di secondo al 100%? Cioè, questa è la... E per chi se lo stesse chiedendo in Timeless non entra, eh. In Timeless non entra perché c'è di meglio, dici, no? Beh, sì. Ma banalmente in Timeless possono farti griff di primo, ti scartano questa e la rianimano loro. Se proprio. Oh, a me questa piace un botto. 9 in Alchemy, tendente al 9,5, 8 nei formati eterni. C'è una possibilità di montare orto per animi di notte? Questa più il pesco e guadagno 2 e tu perdi 2 ogni turno. Ma allora io non ho capito... Cioè, non ho capito allora Leon, ma che incantesimo dici tu? Se mi dici il nome, lo cerco. Così capisco bene quello che dici. Però in generale è forte. L'arena di Figuex è potenziale di Duskman, però non... Ah, ok. Sì, 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 ho capito. Si gioca pure in Pioneer quella carta. E spiegami un po' la situazione di quella con questo. Allora, tu peschi una... Alla fine del turno tu peschi una carta e perdi due punti vita, se non controlli un demone. Altrimenti tu guadagni due punti vita e l'avversario ne perde due, se controlli il demone. Però... Cioè, questa oggettivamente con quella carta sinergizza benissimo. Ti manca un po' il pacchetto a quattro con il demone, quello a quattro mana 6-6, che si toglie i segnalini olio, che fa poi la differenza nel mazzo, eh. Questa è fortissima, raga. Però sì. Cioè, questa con quella carta sinergizza bene. Questa è forte in generale. E soprattutto, Luigi, io ti vorrei dire che questa carta è tutorabile da demonic counseling. Sì, Cloud, ma questa carta è forte a prescindere. Cioè, è qui che... Ma io ti parlo in historic, no? Sì, ma in historic con la NERT te la rianimi. Esatto. Come ce la butti con la NERT? Rana. Sì, rana. Oppure, sì, mille modi di buttare le cartelline. Fai Esper Reanimator, ci schiaffi quattro... Fai un Reanimator... Stile Lurrus, con tutta roba piccola, no? Cosa ha scritto Boltraken? La rianimata 1 con l'energia di Modern Horizon? Certo. Anche? Sì, eh. Madonna. Ce ne stanno 3.000 di rianimini per questo tipo di costi. 7-7 volare World scarto una carta. Se non si giocasse questa, sarei tanto stupito. Anche perché è tutorabile. Che vi devo dire? Ci sono anche altre carte, cerca di mettere... È forte questa, raga. Questa è forte. No, che errore no. Che errore nel playtest? No, non esistono queste cose. È forte, non è che dà bano cose simili. Però è molto forte. Cioè, entra nei formati, secondo me. Secondo me, raga, un errore di playtest è nato, non questo. Ma l'hanno anche detto lì che l'hanno pensato per Commander. Poi è ballata anche in Commander, quindi è ancora più divertente la situazione. Sì, vabbè, è rotta. Era un Commander troppo forte. Questa, ragazzi, entra anche in historic. Io vi dico. Poi, mi sbaglio, può darsi. La mia sensazione è che questa entra proprio in historic. Replicating Terror. Ogni opponent sacrifica un token gridro. Per ogni creatura sacrificata in questo modo, congiuga un duplicato nel tuo cimitero. Ehi, per rianimare... Eh, che vuol dire? Non token creature, eh. Eh, quindi... Eh, tu le vuoi rianimare le carte, con questo. Ho capito, ma è random. È un editto, è un editto, è un editto. Ma io non so cosa sacrificare il mio avversario. Eh, vabbè, dipende. È un editto di base. Eh, appunto, quindi non scelgo. Però è non token creature. Eh, vabbè, ho capito. Quindi potrebbe avere un token, è una creatura forte. Magari te la rinimmi dopo. Beh, in un formato agro, questa qua, mi sembra una merda. No, è una merda. Eh, ok, ok. Cioè, occhio. Allora... Adesso, ragazzi... Mettete a letto le... Diciamo... Io ti dico subito che questa carta mi fa schifo, eh. Ecco qua. Porco due che mi rovini le cose. Mettete a letto le fidanzate e i fidanzati. Rimboccate le coperte ai vostri figli, se ne avete. O ai vostri figli che avete, diciamo, illegittimi. Andate nelle case dove sono e rimboccate a loro le coperte. Contestualmente, chiudete le porte a chiave. Sbarrate le finestre. Spegnete le luci. In questo momento è... Disconnettete da internet tutti i dispositivi elettronici, tranne quelli in cui state vedendo questa live. Perché questa carta, signori e signori, è la carta più forte di Magic the Gathering. La andiamo a leggere. Non aprite le vicine, ovviamente, anche. E anche il nome della carta dice tutto. Benvenuta oscurità. Dovrebbe essere così la traduzione. Costa X, Uno palude. X non può essere zero. Pesca X carte. Crea un XX Black Demon Creature Token con Flying. E le tue vite totale diventano X. Non puoi guadagnare vite per tutto il resto del game. Però, se avete un punto vita, e questa la fate da 30, avete 30 punti vita. E si... Che formato la facciamo da 30? Dico una frase, eh? Ma penso che siete arrivati tutti. Finalmente giocare Mono Black Devotion ha un cazzo di senso. Ah, dimenticavo. È instant. Dimenticavo. È instant. Immaginate questa in Mono Black Devotion. Che cazzo fa? Dove? In che formato? In historic. In timeless. Dove vuoi? In timeless. Dove vuoi? Ci sta scritta una carta che in timeless non ti può permettere di fare. Ci sta scritta una parola che in timeless non ti può permettere di fare. Dove vuoi? La puoi giocare dove vuoi? Pesca. Sì, va bene. Non puoi pescare in timeless. Benissimo. Dove vuoi la puoi giocare questa qua? La puoi giocare pure a calcio. Ti serve il quinto al calcetto. Ma Negro Dominance non si gioca. In timeless... Lascia perdere. E tu stai fissato con sto cazzo di... Adesso magari è così. Guarda sta carta che potenziale ha. Io non lo vedo Luigi. Te lo giuro. Mono Black Devotion. Questa è in quattro pera assolutamente. Ok. Va bene. Come la facciamo la devozione? Aspetta, ma nemmeno Mono Black Devotion per forza. Golga... Cioè, qualsiasi cosa con Niktos che ci sia un nero da splashare. Non è per forza Mono Black Devotion, tra l'altro. Ragazzi, avete letto che cosa fa questa carta? Perché forse non mi sono spiegato. Ma anche un Dimir. Che cazzo ne so? Cioè, allora, questa carta, senza avere drawback... L'unico drawback che ha è che non puoi fare vite. Però ti sale le vite lei, in quel tipo di archetipo. Pesca X carte. Non perdi punti vita. Perdi X carte. John, ti ho nominato prima. Aspetta. John, John, vedi che questa qua a te piace. Leggitela un attimo. Questa carta a te piace, perché puoi scombare di secondo. Anzi, John, dimmi quante volte questa carta la puoi fare di secondo. Questo voglio sapere poi da te. Comunque, ragazzi, questa è fortissima. Cioè, tu a fine turno dell'avversario fai un 10-10 con volare. Instant. Se è bicolore, Niktos... Sì, magari però splashi di nero solo per questa, capito, caro? Io, Luigi, secondo me... No, MonoG secondo me è abbastanza chiuso, però... No, MonoBlack, dai. Secondo me è battuto la testa. Raga, questa cambia completamente il gioco di Magic. Cioè... MonoBlack non ha mai avuto... È fortissima. ...possibilità di fare troppo mare. C'è i Grey Merchant of Aspodel, per quello che fa molto meglio. Molto meglio. Questa è il tuo emano a perdere la... Ragazzi, io lo sapete che non esalto mai le carte. Cioè, fidatevi. Compratene 18 o di qualche più di questa. Che sono solo digitali. Stampatevele. Mettetene la stampante sta carta. Vedi che anche... No, cazzo. John dice che questa è rotta, quindi fa schifo porco due. È Job. Ah, anche pure John. No, John ha detto che... Ragazzi, no, questa è la carta più forte di Magic. MonoBlack Devotion. Questa è il... Oh, ragazzi, no. Cioè, io sono serio. Io non so perché voi state... Io no. Cioè, io pure sono serio. Ma hai letto Instant? O forse non ci siamo... Cioè, non mi sono... Cioè, allora, scusami, eh. Tu mi volevi convincere che sta carta qua era giocabile? E questa fa schifo? Allora, io ti dico. Storicamente... Io guardo molto alla storia perché ci insegna. Ciao Rocco, rimani qua, rimani qua. Allora. La storia ci insegna che... MonoBlack Devotion è stato un mazzo per un brevissimo tempo storico in Timeless, dove il massimo di mana che riusciva a fare... Ci spiega di Timeless. Cioè, questo è historic. In historic non c'è il tempo. Perché mori prima. Ma la scia fa... Remove, al vratte, cose... Sta sotto counter. E come la fai la Devotion senza... Con le vratte? Ma la fai la Devotion. Devevi avere permanenti. La fai la Devotion. Luigi, io lo so che ci stai trollando. No, no, non vi sto trollando. Ne sono certo. Va bene, ragazzi. Per me è forte. Però va bene. Cioè, accetto. C'è qualcuno oltre a me che pensa che questa qui sia fortissima? John. L'ha detto. A parte me e John, c'è qualcun altro che pensa che sia fortissima? Perché Giobbo mi sta trollando, secondo me. Cioè, tranne me e John Micidial, c'è qualcun altro... Meglio di Ancestral Rigol. Oddio, dottore. Sta carta è forte solo con Shadow... Shadow... Vabbè, io lo sto dicendo in Monoblack Devotion, però, eh, quindi... Non ho gli strumenti per poterlo dire. È un gioco da 15 mesi. Ma invece Claudio gioca da 15 mesi. Quindi c'è questo... C'è questo incastro. No, io ho iniziato l'altro ieri. Non da 15 mesi. A detta di alcuni ho iniziato l'altro ieri. Beh, ha detto anche dei fatti. Non si può dire che è scarsa. Buona, Leonam, ci siamo. Ma non riesco a vedere un mazzo vero nella quale puoi giocarla. Io vi dico, comprate le 10 per al day 1. Ve lo dico. Stampatene. Sì, stampatevele. Cioè, stampatevele, le tenete, perché è talmente forte sta carta che anche la stampa di questa carta farà dei soldi un domani. Allora, mo, fammi un esempio da turno 1 a turno 6, nel quale questa carta mi svolta la partita a turno 6. John Micidial? Non ha alcuna curva. Aspetta, aspetta che c'è John Micidial. John Micidial l'ha scritto. No, John in Timeless non entra, grazie. Aspetta, John, ragazzi, è uno che di ste cose ne sa. John ha detto che questa qua si gioca anche in Timeless. Non sai che fine fanno ste carte in Timeless? Ragazzi, John, ragazzi, John ne sa. I riti. Dov'è Evan? Che voglio il vocale. Perché con il rito faccio questa? Voglio il vocale, no, voglio il vocale John ne sa. Dov'è Evan? Poi facciamo fare questo vocale a Evan. Luigi, ti prego, dimmi che stai trollando. No, per me non è rottissima, però è giocabile in un-due copie, massimo, no? Che due copie, caro? E hai detto che è la carta più... Ah, ok. Perché poi non puoi... No, se c'è Luca Montei. Perché poi non puoi recuperare più vite dopo quindi alla prossima. Ok, Luca, questa però te le crea da solo le vite. Cioè, qui, se tu lo fai da 30, vai a 30 vite. Ok. Di primo... In Brawl, sì. Aspetta, di primo e potenzialmente pesco tre e creo pupi, però vai a tre punti vita e le orchi ti fanno tre danze. E Oppo ti fa bolt. E Oppo ti fa bolt. Cioè, questa... No, questa cosa, John, leggi bene. Le tue vite totali diventano X. Questa cosa è rilevante. Quindi, ecco, quella giocata che immagini tu diventa un po' pericolosa. Oh, io ho letto di gente. Doppio Dark Ritual, questa e Dead Child. No, Rocco, abbiamo commentato pochissime carte. Qua oggi facciamo un'ottata, ve lo dico. Perché pensavo fosse veloce sta roba. Invece tutte le carte sembrano fortissime. Stiamo nemmeno a un quarto. Comunque, io, ragazzi, io cerco un attimo di... Faccio lo psicologo nella vita. E spero di riuscire a convincere Luigi che questa è una carta di merda. Ce la metterò, ve lo giuro, mi impegnerò tantissimo per farlo. Il mio dovere teontologico mi impone. Me lo impone. Però fa il ligare miseramente, perché questa carta è fortissima. Però va bene. Allora. Per me, se non si fosse capito, voto 10 nei formati eterni. Eh, voto 6 in Arkham, perché non puoi fare Devotion. Allora, adesso lei mi deve dire questa cosa. Da turno 1 a turno 6, tu cosa fai per tirare questa che sia un minimo forte? Ma Claudio, puoi fare qualsiasi cosa. Cioè, che vuol dire? Dimmi. Mi faccia gli esempi. Qualsiasi cosa. Va, dimmi. Le line nera, che ne so. Le line... Oh, che bello. Giochiamo le line nera. Facciamo devo... Facciamo devo... Facciamo calcio. Facciamo devo... Sì, mettiamo... Ci mettiamo... Guarda. Ci mettiamo pure la 2 mana, 2-3 con doppio nero. Così, allora, se qui ci fosse... Mentre Loppo ci fa a Giannico o Bombarda, noi giochiamo 2 mana, 2-3 Lifeling. Passo. Detta c'è pure. Allora, non è una carta da fare a turno 2 questa, raga. No. Questa è una carta... No, perché giustamente a turno 2 fa schifo. Tu devi costruire un mazzo intorno. Questa è una carta che tu la fai quando hai 12-13 mana con Devotion, peschi 13, fai un 13-13 volante e diventa la tua vita 13. Cioè, che cosa vuoi di più da una carta? Che devi fare una carta di magic di più di questa cosa? Non costare 13 mana. Ma non... Cioè, ditemi cosa deve fare una carta di magic di più di questa. Ti devi fare un caffè? Luigi, per favore. Sì, giochiamo pure il demone che costa 6 neri, così perdiamo la carta. Bravo, Amon! Così si ragiona. Così si ragiona. Perché se peschi 6, Amon, sai che hai perso. Perché il demone ti manda 6 cart. Oppo ti fa push sul demone. Vabbè, però, Pomodoro, questa la vale sempre, allora, ogni cosa. No, però è... Nel senso... Allora... Esatto, fila a mano. Magari giochi 9 vite e non perdi per Life Loss. Assolutamente sì. Infatti, sì. Mettiamo le 9 vite che non fa Devotion con Nero. Dai, Luigi, smettiamole e dici che ci stai trollando. Comunque, vabbè, giusto... No, non sto trollando, ma non serve fare Devotion con Nero, basta un mana Nero. La Devotion lo prepara con qualsiasi colore. Cioè, tu hai Nighthawks con il blu, basta un mana Nero e fai questo. Cioè, non è che serve... Eh, il problema è che dobbiamo giocare un permanente Nero in Mono-G, però. No, Mono-G... Secondo me questa qui non è da Mono-G. No, ovviamente. Oddio! Oddio, non è che fa schifo in Mono-G questa, eh? Fa vomitare in Mono-G questa, perché Mono-G scombi e vinci. Io posso fare un elogio a Seramon. Seramon, quasi ogni giorno in questo canale, io sono molto contento di ciò, i tre quarti dei messaggi di Seramon parlano di Orzov Vampiri. Lo trolli giocandolo con Sorin facendo diventare vampiro. Quindi giochi pure l'alena in blu, quella della trasformazione, nomini. Non ho mai visto una persona così appassionata di un mazzo e questa cosa mi fa molto piacere. Grande Amon, grande Amon. Ma il mana fighexiano fa Devotion? No. Non ci sono modi in Mono-G per fare mana nero. Come no? La terra doppia, la Shockland, banalmente. Cioè, puoi farlo in qualsiasi cosa. Sì, ce l'avevamo messo apposta, se ti ricordi, avevamo messo monocopia di Shockland in Mono-G per Camperone. Questa carta la gioca la vicina. Chiederò alla vicina se questa carta lei la gioca. Eh, se la vicina gioca a sta carta mi preoccuperei. Ma 13 mana nel 2024 si fanno facili. Sono d'accordo. Cioè, nel 2024 li fai al volo. Mm. Come? Dai, non mi triggerà più. Basta, dai. La smetto. Vabbè, è fortissima. Non è vero. Con Nitox. Come si chiama quella terra là? Come si chiama? Nitox. Ma come? Ma come? 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 Come li fai? Vabbè, raga. Cioè, malapena li fa Mono-G. Andiamo avanti. Tanto abbiamo capito. Questa qui. Per alcuni è fortissima, per altri è scarsissima. Raga, per favore, tenetevi le wildcard mitiche e craftateci Griff. Per favore. Vabbè, comunque, Welcome to Darkness, Golgari Devotion, in qualsiasi mano, anche in Mono-Red la puoi giocare questa. Oh, che bello. Allora, io muovi, riporto un attimo alla realtà Luigi. Però devo, anche Necro-Dominance ti dà tre mananeghe. Dai. Turno uno, Get of Soul. Turno due a Gianni. Turno tre, Bombarda. Ciao Mono-Black. Vabbè. Ma ciao a tutti i mazzi. Questo è forte. Angish, bellissimo sto disegno. Direction Life. Qualcuno l'ha scritto pure prima. Fila Anamolo. Fila Manolo, scusa caro il nome. Angish Shader Collection. Sorcery. Costo due. Scarta una carta. Se lo fai, seek due carte che scelano un tipo di carta. Ah, che non scelano. Un tipo di carta con la carta scartata. Scarto la carta, pesca due che però scelgo io più o meno. Scarti terra, peschi due non land. Sì. Non mi sembra malissimo. Eh, vabbè, pieno di queste carte nel rosso. Non è instant, quindi no. Non è instant effettivamente, quindi no. È il classico scarto uno, pesca due del rosso. Eh, ma non è instant. Eh, appunto. Ciao. Secondo me non è... Sì, sì, non è instant. Però è un'iniezione, ma secondo me non ce l'hai... No, no, no. Cioè, è un'iniezione di valio, ma non ce n'è bisogno. Oddio, però, eh. Eh, scarti questo. E non ti dà le altre creature? Tipo da doppia terra, volendo, se scarti quello. Hai un'altissima probabilità che ti dia doppia terra? No, in realtà non è un'altissima probabilità che ti dia doppia terra. Sì. No. Perché dice che non c'erano... Ah, sì, perché togli le creature, togli le carte già pescate, sono le terre quelle che rimangono più nel mazzo, sì. Vabbè. La probabilità è che ti dia due terre. No, 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 sì, non è altissima, però non è manco bassa. Cioè, nella maggior parte dei casi ti darà almeno una terra. Eh, vabbè, vediamo. Comunque, vabbè, sorcery, quindi sti cazzi. Eh, abbattitore crudo. È una stanza... A me stai stanza, non mi piacciono. Quando sblocchi questa stanza... Questa stanza fa due danni su una creatura a bersaglio. Quando sblocchi questa stanza... Che si dica? Quando la giochi, no? Quando paghi tre mana? Sì, sì, paghi un mana. Quando paghi un mana... Un mana ha due danni a sorcery, praticamente. Ma mica per sempre, solo una volta. Solo una volta, sì. Poi, quando paghi altri tre mana... Se la faceva sempre era figo. No, quando paghi tre mana lo rifà? No, fa l'altro effetto. Ok. Quindi tu la giochi a umana e ti fa shock. Quindi vabbè. Shock a sorcery. Che comunque, vabbè. No, comunque fa... Ah, creatura però, eh. Sì, fa schifo. Quando una source... Una source che controlli fa non combat damage... Scende la creatura nella tua mano. Questa prende più due, più zero e è a hast. Cioè questa. E diventa 9-7 con rapidità e Rakdos. Però non la casti dalla mano perché vuoi rianimarla. Però non ha removal, quindi la possiamo castare dalla mano. Perché lo spellbook non dà removal. Quindi la possiamo castare in realtà. Secondo me... Stiamo parlando di un magic che... Muore da Boros. Allora, non mi piace troppo, però... Due danni solo a creatura e poi a tre mana dobbiamo fare... Dobbiamo spendere tre mana, quindi turno tre passo... Ho letto male. Ho letto male, ho letto male. Un altro Shock. No, no, infatti. Avevo letto solo danni. Ok, no, no, no. No, 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 allora no. Troppo, troppo. Mi sembra una carta mediosa. Aspetta, aspetta che Rocco la tocca piano. Quella porta a tre è pericolosa ed è forte contro Boros. Perché? Contro Boros perché dovrebbe essere forte questa cosa? Io me la immagino più forte contro midrange. No, sì, Ramon non sono Cloud Strife perché mi mancano i capelli... I capelli gialli. Aspetta che voglio leggere che dice Rocco. Faccio Pyroclasma con quattro creature e poi ti tico un mostro rapido in faccia. Pyroclasma è legale in Alchemy? Sì, è standard. Il problema è che... Devi prima fare questa e poi Pyroclasma, sono cinque mano. Devi avere il bobone in mano. E soprattutto... Soprattutto... Boros non è detto che muoia da Pyroclasma perché gioca ai Lord. E di base sono dei due due con Valiant quei cosi che... Alcuni hanno prowess e quindi... Sì, ma devi avere una creatura in mano. Devi avere una creatura grossa in mano. E soprattutto con Pyroclasma non è detto che tu vratti. Devi avere una creatura grossa... Quindi a tutti gli effetti... Eh ma... Cioè, parliamo di nulla perché devi avere una creatura grossa in mano. Sennò non hai fatto... Soprattutto devi avere creatura grossa in mano. Devi avere fatta questa. Devi avere Pyroclasma e non devi essere... Oddio, grossa in mano. Puoi avere qualsiasi cosa. Comunque è la migliore. Non è che per forza devi... Non lo so, troppe... Servono troppe carte... Servono troppe carte per rendere questa cosa qui sensata. Quindi per me è un no. Anche secondo me. Questa a vederlo tu mi spaventa. Verdant Dread. Due mana. Incantesimo. Mitica. Ok. Quando questa ha un altro permanente dei controlli. Entrano. Manifesta Dread. Dread. Eh. Così. Quando entra questo ha un'altra. Simile. Costo 5. Congiura una carta nominata Verdant Dread nel campo di battaglia. E quindi rifà tutto il discorso. E però cos'è che fa questo Verdant Dread dopo che entra? Niente. Dopo che entra no. Cioè, devi pagare 5 e farne l'altro. Sì, ma... Con Elfo di Lanovar non mi piace comunque. Cioè, Simic... E questo è per Simic Dread. Che è la meccanica Simic del Limited. Manifest Dread. Boh. Cioè, quello che io sto immaginando... È che... Questa qui a costo... Cioè, a costo 2 fa un 2-2 comunque. 2 mana 2-2. 5 mana 2-2. Ci deve essere qualche combo. Se no non me lo spiego. Allora... C'è il 3 mana 3-3. C'è il 3 mana 3-3 di questa espansione di DuskMorn. Che dice... Tutti i permanenti hanno... Dai un mana. Di qualunque colore. Quindi potenzialmente puoi farlo Infinite con... Tivark è uscito. Quindi no. Non puoi. E Ruz. Però Ruz già vinceva prima. Aspetta però. 5 mana fai altri 2-2-2. 2-2. Sì, Bolt. Eppure per me è alto a sto giro. Non per questa. Magari. Però è alto e per l'elever a sto giro. Questa è rompibile Luigi con... Io fino adesso ho visto tre... Fino adesso ho visto almeno tre carte che possono entrare in historic. E ho detto tutto. Mi sembra alto e per l'elever. Questa... Non è male nel... Con il 3 mana 3-3 verde. L'enduring verde. Perché ti dà mana a quei cosi. Quindi tu puoi fare turno 2 questa. Turno 3 quello. Turno 4 ricongiuri un'altra. E poi continui a manetta. E questa ti comincia a creare 2-2-2-2-2. Ti riempie il cimitero. Golgari vuole... Roba al cimitero eventualmente. Quindi potrebbe rompersi in questo modo. Mi sembra utopica. È da combo. È da combo, sì. E questa qui forse ne sentivo parlare. Però adesso mi viene difficile immaginarla. Però... È di quel genere lì che diceva Cloud. Un Golgari... Un Golgari magari. Però... Direi solo in Alchemy. Non ce la vedo in Roots. Anche perché non si gioca più in Roots in Historic. Quindi... Non si gioca Roots nemmeno in Alchemy. Perché è uscito Diver. Vabbè, andiamo avanti. Diguei no? Sorcery costo 2. Manifest Dread. Dopodiché ogni carta face down che controlli prende... Questo permanente costa 2 in meno per essere messo faccia in su. Ok. E quando questo permanente è messo faccia in su... Ok, ciao. C'è una creatura che prende più uno più uno. Non è male questo. Ma in Limited. In Limited. In Zemic Dread non è male in Limited. però non è da costruito questo no c'è di meglio questo vediamo entra nel campo di battaglia tappato che cosa fa quando sopravvive quando è tappato ritorna una terra dal tuo cimitero sul campo di battaglia e lì prende più uno più zero più uno più uno capito ma chi se ne frega entra tappato è il miglior survival che esiste ho capito ma devi aver messo una terra nel cimitero puoi millarle ho capito ma devi farlo quindi vale la pena per questa carta mi chiedo ma non lo so mi sembra una carta scarsa comunque survival è intratappata mi sembra già sinergica poi quello che ci si può fare non lo so però è sinergica ho capito però illimited sì certo non incostruito però mi sembra sinergica qualcuno nomina le fetch quindi parliamo di timeless o di modern che no di timeless qualcuno nomina le fetch no Telsar in timeless questa timeless lo vede proprio molto lontano guarda sì esiste fable fila namolo fila mamolo sicuramente però c'è capito esiste anche non giocare questa carta sicuramente sicuramente no cioè è sinergica questo occhio che amicidia questa piace tra l'altro io e john ci dobbiamo fare una chiacchierata su come romper ricordatevi giusto non è un enter the battlefield comunque deve comunque arrivare viva cioè nel senso non è che quando entra lo fa sì 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 cioè non è giusto per non è è una è una innescata no questa è monog e luca non la giochi cioè giochi polugranos di secondo non credo che puoi giocare con prismatic in monogrin o niktos se lo scarti visto che è leggendaria eh cioè si parlano di casi un po' ho capito non lo so vabbè ragazzi cioè io non so perché vi state cioè questa non è una carta forte lo sapete cioè ve lo dico ma nemmeno quella nera di prima però no quella nera sì questa è da limited ma nemmeno da limited forse non lo so ma è limited è rotta perché simic si milla tanto quindi mille le terre recuperi mano vabbè paura del cambiamento creature incantesimo incubo mi piace che hanno fatto queste cose gold con tutte le eventuali fobie del genere umano prima era pure del giudizio pure del cambiamento nightmare quando questa creatura entra o muore esine un'altra retura dei controlli se lo fai congiura un duplicato di una random creature di mana value 2 in no di mana value x nel campo di battaglia dove x è 2 più l'esiliato creatura mana value ok quindi cosa devi avere devi avere una creatura sul campo di battaglia esiliarla e ti congiugo in duplicato di una random creature ma random random significa random non del tuo mazzo di magic e no si invece e invece si e invece si raga è figa cioè random creature dice non dal tuo mazzo no spero sia dal mio mazzo perché non mi voglio ritrovare contro coma in alchemy no vedi che ste cose le specificano ste cose le specificano quando è dal mazzo no raga cioè io mi posso trovare contro coma o angelo di platino o angelo di platino in alchemy o ragavan no ragavan no ragavan no era tipo angelo di platino in alchemy no aspetta confermate che cioè qui da come c'è scritto dice da magic non dal mazzo vedi non è dal mazzo cioè tu con un droppa con un droppa 5 potenzialmente poi ca la traxa cioè ragazzi ci siamo capiti cioè questa può calarti tutte le carte di magic cioè devono dirci ovviamente ovviamente luigi tipo cala anche troll di casa doom benissimo ma eh però il momir ha un pool di carte caro a caccia che non è totale cioè non in momir non puoi prendere tutte le carte di magic ha un pool definito di tante carte ma non di tutte questa le può prendere di tutte ma cioè questa praticamente se io esilio un droppa 2 mio mi può dare shieldred si e ti può dare pure balot però si mi può dare anche una merda però era per dire può darmi qualsiasi cosa luigi luigi se esili un token se esili un token ti da gianni perché è perché 0 più 2 no aspetta 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 ho trovato se esili un drop a 1 ti può dare questo attenzione e quando succede chi è che chi è che ha avuto culo aspetta tipo dange grucias che secondo me è meglio eh ma va capito tutte le carte su arena esistenti boh sarebbe interessante infatti tipo da pure 3 mana 0 4 muro il concept di questa carta ma che bello è paura del cambiamento paura del cambiamento e stravolge magic ma così ma è bellissima sta carta allora io vi dico la mia a me non piace perché è troppo randomica cioè mi immagino già i mirror di questa carta dove io la faccio e trovo troll di casa dove la persona mi gioca a coma non è competitiva sta roba non è solo limite però già me lo immagino perché lo monterò un mazzo con questa carta tu lo sai e io immagino già che esilierò il mio drop a 5 e trovo non lo so 7 mana 6-6 swamp cycling invece l'avversario trova coma già lo so no abbiamo capito random fra tutte le creature esistenti su magic praticamente comunque andiamo avanti penso che abbiamo discusso la carta fair of chain sta spoilerata nel set alchemy è una carta di tale esclusiva non ci sono molti dettagli ok c'è GPT se è così faccio un mazzo trollo solo con questa forse pure del cambiare perché ti può dare una carta di merda è quello che dicevo il concept mi piace comunque alter iced ah questa è peggio a rocco a me fa cagare 3 mana ward paga 2 vite quando attacca iced target top nel library a me non piace non ha rapidità perché è un 3-1 e secondo me il piccione è meglio perché è più solido vola ed è decisamente una carta più forte se sopravvive è normale che la vince però è un 3-1 che deve sopravvivere vuol dire che stiamo giocando contro sparchi un 3-1 non sopravvive da niente in alche cioè poi deve attaccare quindi attacca o l'idea imbloccabile in qualche modo no questa qua a me non piace cioè piccione io ogni volta bestemmio per toglierlo perché ci devo mettere una removal per togliere un 1-4 giocherò questa a me quello non piace sì però ovviamente ovvio che la puoi giocare anche se fa schifo però non è forte non mi piace poi ovvio che uno la può giocare non è che c'è il divieto è pure rara il piccione è un gommon però cioè usare wildcard rare per questa usate le wildcard rare per craftare le fetch non vi lamentate che non avete le rare perché voi craftare non mi garba ok ok barba boh ma sarà fa tutte le carte di magic sì non vuole non è evasiva capito ci avesse almeno minacciare allora rapidità niente vabbè rapidità era carina ma nemmeno no rapidità troppo forte alla fine rapidità hai fatto bene testa no è treman ice si attacca potrebbe anche non fare niente esatto quindi però si prendere i movali se c'aveva rapidità però si prendere i movali le fa perdere due punti vita in caso vabbè vediamo non so comunque alla peggio ti fa due per uno eh perché alla peggio una volta attacca no alla peggio fa uno per uno più punti vita quindi più un minimo di tempo alla peggio fa due per uno perché la devi togliere deve tradare con un qualcosa che muore tradando con lei più vabbè insomma ecco qua la famiglia dei drop a tre sbagliati forse spirito volare quando entra switcha la forza della costituzione di ogni creatura sul campo di battaglia così dopo di che prendi un 12 time boon un emblema che triggera solo 10 volte 12 volte che dice quando una creatura dei controlli entra switcha la sua forza e la sua costituzione la cicli a due i muri no non è vero si questo è da mazzo più o meno cioè dovrebbe essere cosa del genere si da mazzo muri boh eh ma che c'è tutti i tre uno che non possono di fe che non possono attaccare devi costruirtele così cioè se giochi questa devi metterti quella roba lì muri combo broken no dai e dopo di che questa carta no è mazzo muri questa questa è mazzo muri anche perché dopo di che ogni muro che entra lo switch allora luigi questa carta questo tipo di carta ti dico subito non si gioca in marvel snap però aspetta i muri hanno anche zero a volte di attacco quali non puoi giocarli e appunto quindi c'è solo i muri che hanno almeno uno che però diventano tipo dei 5-1 cioè che muri hanno da tutto non lo so allora questo tipo di carte non si è giocato su marvel snap io proporrei di andare avanti la domanda perché c'è una carta che dice che cambia cazzo aspetta che ci sono dei commenti che devo evidenziare quello di jesus ovviamente vorrei mettere mano sulle sostanze ok quello di john micidial ci fa i filtri no john perché sono digitano olli quindi non fai però 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 ragazzi e poi chiede giustamente scusami un attimo caro anakin ma perché izet effettivamente no è giusto che sia izet perché questa la puoi giocare in uv control perché si ciclo ah tu dici cioè c'è sky control ci metti cavolo no ragazzi questo è fortissimo c'è scritto pago due pesco una carta è fortissimo due mana pesco due mana pesco uno più una carta cioè più scarto una carta bellissima bene andiamo avanti mitica perché si andrei in maghi andrei in maghi allora secondo me questa qui il fatto che sia mitica non lo so raga voi siete dovete dovete essere più cioè oggi oggi mi sento un po' più carta novista del solito vedo poi abbiamo l'ennesima raga sono tutte rare le carte di sto set summons innaturale quando tu ah torniamo alle carte che hanno scartato nell'ultimo set quando si giocava sta roba però aspettate noi pensiamo ai muri se invece la la giochiamo percatori che hanno 3-1 come quella di prima ho capito caro però divento 1-3 arcanista 3-1 simmetrici 3-0 e quindi muore no no vabbè ci sta quello che dice luca quello che dice luca comunque è un appunto giusto da fare però anche in quel caso non mi sembra forte allora ho un natural summons se non sei lo starting player questa spell costa 1 in meno per essere castata quindi costa 2 mana simic manifesta dread e rebound che significa che all'inizio è come ephemerate cioè che ritorna non mi ricordo la rifai prima della ok la fai 2 volte prima della pescata quindi a costo questa qua praticamente vai in esilio tu la casti vai in esilio all'inizio del tuo prossimo turno prima della pescata la rigiochi potrebbe chiare problemi a cosa a chi spero non a me simic manifest dread non è un mazzo fa tanto vantaggio no vabbè fa un 2x1 che comunque non fa schifo no non è brutta il problema è il mazzo cioè fa 2x1 questa sempre secondo me è da limited come dice surion cioè non sempre in limited questa è rotta in quel mazzo ma perché in quel mazzo il limited già è rotto di suo vabbè ma limited chi se ne frega cioè ovvio che il limited delle rare sono forti sto cercando di capire se potesse avere un senso no io ci ho provato a montarlo manifest dread vabbè allora se non te la counter è un 2x1 ma no insomma è forte bisogna trovare il mazzo e value ma farla a 2 non fa schifissimo diciamo che ci penso però eh ma a 2 già ci sta una carta che fa manifest dread si chiama manifest dread ma 2 volte la fa no la fa una volta però è comune ho capito ma chi se ne frega cioè scusami non è che non è che se è rara vale di meno cioè questa la fa due volte cioè quella costa 2 punto qua devi essere lo starting player eh sì però lo fai due volte non è forte però non è come quella cioè questo se tu non sei lo starting player stai a fare 3 mana a 2 e 2 e poi turno dopo un altro 2 e 2 che ok ma no non fa devotion non è un permanente e comunque non fa devotion perché è doppio cioè nel senso doppio colore però parlando di devotion parliamo già di cose che questa carta non c'entrano niente cioè formati eterni sì quindi vabbè ma anche perché è sorcery quindi vabbè soul shredder questo è percià rocco secondo me costo 2 2 2 rapidità quando uno più creature muoiono questa qui prende più uno più uno per sempre per sempre cioè anche tipo fra mille anni avrà più uno più uno questa abilità triggera anche se li è nel cimitero come quasi tutte quelle simili la guidi con uno e a costo uno sacrifici due creature e la ritorni sul campo di battaglia e quindi si gonfia diventa 18 18 non fa schifo non è brutta questa anche perché creo uno letteralmente qualunque cosa manca una keyword per essere tanto forte questa carta secondo me trampol yes ovulare sì esatto un'evasività però c'hai tutti i turni un botongolo del genere che ti mena non è gestibile no no non è gestibile oltretutto in alchemy oddio in alchemy però perché dovrebbe essere tutti i turni menarti cioè perché l'altro non deve fa niente lo puoi rimuovere lo puoi bloccare guarda che per rimuoverlo non è facile questa in alchemy non ci stanno tutte steremo ci sta portando ma costa 3 io la stavo già io la stavo immaginando in ottica formati eterni cioè in alchemy è forte sicuro ma nei formati eterni secondo me ci stanno veicoli migliori ecco sto coso scomba con l'urrus però mi sa che non giocano la stessa partita non è male cioè anche il fatto che sia 2-2 di base si dà motore di sacrificio in sacrifice questa qui non è male il problema è quando ne peschi le peschi e non c'è creature o non so in quale spot entra cioè devi togliere delle carte in sacrifice cioè mardu mi sembra abbastanza che vuol dire la peschi questa qui è nel cimitero della rianimi sì ok quello che sto dicendo io è metti caso che intanto allora innanzitutto la lista di mardu è abbastanza settata mardu cosa in che formato ma che storie questa è in alchemy no in alchemy ok tu stavi in formati eterni no io ho detto non in formati eterni no che formati eterni no no in alchemy boh mazzo coi ma pure in orzo va bene ci metti i tuopini sta là non me le immagino in formati eterni questa se vede non sia ma cioè non mi stupirei di vederla aspetta però dice quando altre creature muoiono anche quelle dell'oppo raga questa è una tech contro contro o sbaglio sì non c'è in alchemy in alchemy sì ovviamente nei formati eterni no perché esiste la parata quella figa no no non è sunfall il problema è quell'altra qual è quell'altra che spacca anche le altre parti che spacca tutto sì no farewell quella del ciao califo quella di moderno reso con energia dice lui quella con l'energia spacca incantesimi anche artefatti spacca tutto tranne blazewalker raga però tutta roba che costa x energie o meno ho capito però la puoi rianimare no no ma i veicoli non vanno questa è forte il problema di questa carta è dove metterla e perché e cosa togliere io questa secondo me non è non è assurdo giocarla di side contro contro se sei un aggro secondo me invece non è fortissimo giocarla contro contro perché contro lo sappiamo che che colori gioca di solito e poi non c'è sunfall in eh però sai ti faccio vratta questa diventa 8-8 sei tutto tappato metto un 1-1 e ti faccio 8 danni cioè questa cosa non fa schifo il fatto è che allora in incontro con il castello bianco no perché ti vratta per me è da per me è da il problema di di questa è che sta nei formati eterni sta sotto lockdown che si gioca sta in energy secondo me non c'è spazio però si potrebbe trovare ma non credo sta sotto lockdown sta sotto eh vabbè purga se parliamo di storic sta sotto la la vratta quella con le energie vratta of the sky e comunque cioè contro contro queste carte non sono fortissime io ve lo dico da giocatori contro 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 sono forti le terre invece io da giocatore di aggro con un po' più di esperienza queste qua sono forti contro contro secondo me perché ok che c'è lo io non le temo c'è lo spot e vabbè sta sotto tutte stanno sotto qualcosa però intanto è un problema che devi esiliare questa eh ma perché la devo esiliare perché se non la esili ti torna cioè sono tutte altre due creatore però e vabbè magari ho rifatto e poi se le deve sacrificare sì sì ho rifatto bordo tu mi fratti cioè capito questa qui devi mettere tre pezzi per rifare ma vedi che se tu stai giocando aggro tu i pezzi li vuoi mettere non è che giochi senza bordo sì ovviamente però due pezzi li devi sacrificare per rimettere questo poi esatto l'1-1 lo fai con Fontana con Mirex non lo so a me questa in realtà piace poi la vedo soltanto lì eh cioè la vedo come il post post white perché non stiamo giocando allora banalmente vedi che esiste esiste esistono anche degli spot in cui ovviamente questa qua invece non te la tolgono così facilmente non lo so esatto prima ti fa brazzo sacrificare più cioè magari ti fa bratta se con un mano aperto questo è nel cimitero per qualche motivo se c'è sul campo di battaglia tanto meglio ti fa bratta questo diventa 8-8 basta che ci metti un 1-1 e fai un 8-8 danni cioè non è male secondo me non è male vedi ho stranamente troppo d'accordo con John oggi sì contro cioè la vedo di side contro contro però vedremo no aspetta Suger non è obbligatorio sacrificare due creature è solo se te la mettono nel cimitero e tieni conto che puoi sacrificarle cioè prima dell'attacco questa c'è rapidità nei 3 però magari non è facile che te la mettono nel cimitero non è detto non lo so se fanno se fanno vratta prende solo più 1-1 eh one or more è vero con vratta sì con vratta sì sì però voglio dire è un 2 cioè costa 2 questa non è che costa 10 boh vediamo vediamo se entra con raptor attorno 2 hai rapidità io questa non la boccio anzi questa mi piace vi dico di più questa mi piace costo 3 vediamo se ha senso leggerla add a 3 spendi questo mana quando muore si la top 2 carte fino alla fine del turno io per cast ciao 3 ingolori per casta una creatura significa che tu già devi avere il mana quindi hai fatto 3 mana più poi deve morire deve fare deve dire no troppe cose limited anche se è bello che fanno i tassi le cose leggila tu questa va allora chittering illuminator 1 mana e 2 specifici verdi aspetta me lo fate uno shout out a cloud in chat ragazzi chi c'è di mod andate a seguire sto sto carta vecchista di cloud che sta imparando da me solo le cose negative vai vai infatti ho imparato pure a giocare allora fino a fino a quando è aspetta siete sbrigativi stefano siamo 2 ore e 22 che parliamo abbiamo visto nemmeno la metà delle carte quindi ti assi che stiamo andando molto lenti fino a quando è nella no non è questo nella cima del tuo mazzo puoi guardare vabbè lo guardi e lo puoi castare fino a quando nella cima del tuo mazzo c'è una creature card no è che sono complicatissimo da interpretare fino a quando nella cima del tuo mazzo c'è una creature card la puoi guardare e la puoi castare vabbè giochi le carte dalla cima del mazzo e ci voleva tanto giochi le creature dalla cima del mazzo quando organizziamo una 24 ore a parlare di welcome the darkness adesso facciamo una maratona ragazzi maratona di 24 ore che dico che fa cacare parliamo solo di welcome parliamo solo di quella in eldrazi avere tre mana non è forte in eldrazi avere tre mana è forte se le fattico ursa tower allora la leggo io perché claudio vedo che questa skill l'ha dimenticata no no l'ho letta se tu ce l'hai in cima al mazzo la puoi castare e poi puoi castare creature dalla cima del mazzo quanto cazzo ti pare se c'è una creature in campo ok le ingambo è una creature in cima queste carte qua non ti giocano mai no non ti giocano mai queste si gioca solo l'elfo 3 3 di modern horizon 3 oppure elvish coros in yakmot contro control basta non mi piace cioè non è brutta nemmeno bella cioè quelle cose che tu dici come è questa è simpatica però è simpatica si si come era quella ragazza è simpatica no vabbè senza andare a fare il coso però cioè eh vabbè era per dire delle frasi comunque si non mi piace cioè più che altro ce ne vedo tantissime di carte così non si giocano alla fine mai cioè se ne parla sempre ma non si giocano mai tranne il 2-2 goblin solo quando si è giocato con questo effetto praticamente boh vabbè poi a qualcuno piace eh Luca quello ho letto ma quello che stai scrivendo mi sembra molto ambizioso eh di avere tipo le carte sul campo di battaglia quella lì first strike mi sembra un attimino poi tra l'altro parli di historic quindi Squirrel Com non esiste in Alchemy immagino no però in historic si e in historic c'è Collected Company si ma no questa non poiché questa però la giri con Coco eh si ma con Coco non vuoi mettere merda nel mazzo vuoi mettere carte che ti servono però in Alchemy in come scrive adesso Testar in Alchemy in un GV in Cantesimi se no non ti fa schifissimo ma in Cantesimi è un Agro e comunque giochi mezzo mazzo in Cantesimi e mezzo mazzo di creature quindi non è probabilissimo che andiamo avanti che tu abbia delle creature in cima andiamo avanti cioè non lo so si andiamo avanti sappiamo tutti che ci vengono assolutamente sì Gilded o Gilded Ambusher questo è un Lizard 4-2 sembra la famiglia delle carte gold eccetera eccetera quando attacca testo lunghissimo 4-2 costo 3 v0 quindi già non perdiamo troppo tempo anche se 2 dietro non è bello quando attacca puoi sacrificare un altro non land permanent ok quando lo fai ogni opponent esilia un non land non token permanent che controlla è una carta random dalla sua library dopodiché questa fa danno pari a eccetera eccetera andiamo avanti ma che ma questa carta quanto deve essere ambizio solo che la gioca ma soprattutto quanti acidi ha calato quello che l'ha scritto si è calato fammela leggere meglio però un attimo ogni opponent e tu pure devi sacrificare un altro non land permanent solo quando il problema è che deve attaccare non c'è etb non ha etb e deve attaccare è lunga la cosa non mi piace e soprattutto muore da troppe cose cioè il fatto che sia due in alchemy si gioca torsio di tower per esempio quindi si gioca shock torsio di tower però fa danno pari alle due carte from the air library la sua si è ciò opponent sempre ci sarà la speculazione del discorso il commander e cose varie no si il problema Luigi lo sai qual è è che dato che il mete aggro tu che questa qua attacchi e fai due danni perché la bersaglia si ma poi soprattutto deve attaccare e tu la spacchi poco due dietro no mi piace no vabbè questa stanno mettendo e ciò opponent a prescindere in quelle alchemy secondo me per fare in modo che noi parliamo di sta roba qua l'hanno già fatto con un'altra carta e quindi dicendo l'opponent alla destra e cose simili quindi non lo so non credo arriverà cioè non credo questo sia uno spoiler per commander però mettiamo questo seme pure nel discorso io andrei avanti no non mi risulta bolt cracker in questa news mi dispiace credo sia una fake news onestamente quindi no poi andrei avanti no volevo leggere perché sai nella mia chat se si dicono fake news non sono contento ebbè no non è vero che nel 2025 esce il multiplayer non c'è scritto nessuna parte mentisco esce è meglio ci divertiamo però non è una news è una fake news due mana due uno izet izet double team otter glimmer la legga la legga però leggi la c'è tanti in italiano quando cast un instant una sorcery le creature che controlli che sono otter o incantesi prendono più uno fino a fine turno vabbè quando muore fa come tutte le altre enduring quindi ritorna come incantesimo questa non è male secondo me no bolt non l'hanno confirmata questa questa è più forte di ley line basta l'ho detto allora quando cast un instant o sorcery prendono più ma solo le otter e gli incantesimi sì e in alchemy c'è le otter non puoi fare un altro izet o pirati ma rocco che fretta c'hai stasera fammi capire dobbiamo prenderci invece il tempo ce l'avrei io che qua dobbiamo prenderci il tempo invece di parlare di questi qua dicendo che sono scarsi a me piace questo in che mazzo double team vuol dire che tu la giochi e ti mette un'altra copia in mano eh appunto che poi muore e diventano incantesi cioè in otter questa è forte in otter è forte in historic quindi no in archemy otter eh è tipo un izet prowess sì ti fa ley line più o meno no è più forte di ley line vabbè tutto è più forte di ley line perché costa due e se me la vedi in mano non è un chiodo anzi sono contento sì sì non c'è motivo di non giocarle in otter se otter è un mazzo questa si gioca penso che siamo d'accordo forte sì per me è promossissima poi mi piace pure il disegno sì sì è bella cioè muore non te ne frega niente perché tanto ce l'hai comunque non c'è motivo di non giocarla ed è molto forte perché ritorna come incantesimo e ne fai pure un'altra non è leggendario esatto che muore pure quell'altra e ti ritornano in incantesimo e restiamo là è forte questo è bello con le ley line blu dicendo otter in maghi diventa Balmora 2 eh sì perché? ah perché tutte diventano perché le ley sì ok sì sì è vero l'ho notata cioè stanno riciclando delle carte di Blumbo stanno facendo delle porcate questi con acne stanno riciclando disegni di Blumbo sì sì perché questo è un otter quello di prima un lizard quello dopo sarà un bar stanno riciclando dei disegni di Blumbo che hanno fatto fare a sti ragazzi troppo bello non c'è un mazzo combo otter che spamma otter infiniti ciao pucce non lo so non credo c'è la classe quella che fa Shark Typhoon per le otter però questa qui diciamo promossissima sicuramente molto forte questo è da vedere se si gioca oppure no sì sì su youtube lo faccio uscire o domenica o martedì di stesso che esce l'espansione martedì ciao barba ragazzi seguite pure il barba mi raccomando aspetta che faccio faccio lo shout out che ha ripreso a streamare magic è è un è anche un bravo ragazzo in tutto ciò quindi andiamo a mettere un cuoricino questo fa capire che Blumbo e Duskmo non sono usciti con le tempiste inizialmente previste sì può essere può essere può essere che sia anche comunque questa è forte io me l'ho letta allora vola vola lifelink questo è quello che piaceva Rocco forse eh ma è forte quando guadagni vite una creatura random nel tuo nella tua mano in modo perpetuo prende più x più x dove x è l'ammontare delle vite guadagnate eh certo è forte è forte tu c'hai il pipistrella un mana che è 1-1 quello di x 1-1 costo 1 volare lifelink sì sì mi piace attacchi deep cover bat questa zoralyn che ogni volta che i cosi attaccano eh prendi vite è bella è bella e basta e in più e in più hai anche la carta dimenticata dal signore che secondo me il bat è più forte di tutta eh Blumbarro che è il 2 mana 2-1 con offspring uncommon che dice ogni volta che guadagni vite l'avversario perde altrettante vite poi un incantesimo quindi la convochi volendo con quell'altra se dovessi mettere quella nel mazzo non lo so però questa è una bella carta nell'archetipo gay life poi è bat l'archetipo gay life questa è l'unica uncommon giocabile fino adesso secondo me l'altra non mi sono piaciuta ma questo è fortissimo questo è il tuo punto 10 in bat è 10 quale? quella di prima ah pensavo il topo questo qui no no il topo non l'ho mangole che bello sto disegno madonna rat glimmer once during allora una volta durante ognuno dei turni tu puoi castare una non critor non aura permane spell al tuo cimitero se lo fai prende in modo perpetuo no diventa un 2-1 minchia aspetta aspetta un attimo cioè io posso castare go for the throat e divento un 2-1 che però fa rimozione o no? no come no? si oddio si si fortissima porca troia ah no permanent dice permanent non puoi fare go for the throat ok vabbè comunque è forte oddio è forte meno già meno secondo me ho capito allora perché devi avere permanente incantesimi sì è vero incantesimi artefatto cioè non devono essere non devono essere aura e non creatura no devono essere una non creatura ma non aura quindi un incantesimo o un artefatto o un artefatto no 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 o un blazewalker o un blazewalker sì però cioè questa è la classica carta che devi avere della roba nel cimitero devi sopravvivere cioè capito no però avesse detto non grido sarebbe stato tipo o prendere muova lo è pinto ma certo perché potevi castare una una spell di stanza go for the throat poi aspetta non la non la casti gratis devi pagarla quindi il turno che entra non fa niente questo cioè no 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 niente l'avevo letta male non mi piace no instant no perché l'instant non sono dei permanent ah non aura permanent eh non c'è la virgola effettivamente non lo so no secondo me non grido non aura permanent anche secondo me vabbè comunque andrei avanti no però aspetta sta cosa è rilevantissima in realtà però non c'è la virgola è vero è vero non c'è la virgola no è non creature non aura permanent non dice permanence però no quindi è come dicevo no 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 Rocco avrebbe usato il plurale se si riferiva solo a non aura avrebbe usato il plurale secondo me comunque è troppo confusionare ste cose no 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 ma è così perché se no era il plurale è permanente non creature non aura è un permanente quindi non puoi castare go for the trot avrebbe usato il plurale è un permanente e puoi castare solo un permanente quindi non gli instant sorcery tipo l'incantesimo quello a 1 che scarta una carta oppo puoi castare incantesimi artefatti diventa 2 1 puoi castare incantesimi artefatti se hai artefatti a costo 0 che si saccano puoi fare cast e sacchi infine no una volta per turno una volta per turno si comunque mi sembra una carta mediocre andrei avanti però il disegno è bello no più che altro non capisco cioè perché dovrei giocarla per farci cose e soprattutto non capisco i colori si solo nel turno nostro no nel turno di hop si no brutta brutta questa dai tra ne se esce qualche combo eh ma una volta per turno non esce una combo no no infatti no questa è mi sembra brutta si si ma poi possiamo cast omniscienza col 2 1 vingibile no non è vero no perché non dobbiamo pagare il malablu eh capita niente ciao lo paghi l'ennesima carta orzov che rocco dice che è fortissima invece che a me non piace invece il bat era fortissimo io saremo d'accordo io e Rocco una volta l'ultima volta mi ha detto che la carta quella lì che rianimava di alchemy con extort era tipo la carta da bannare in timeless quelle robe là manco la conosco lui se la ricorda valiant lui se la ricorda valiant embarking costo 3 1 1 rapidità quando entro attacca ah Rocco io non so se sbaglio però mi pare che avrebbero dovuto mettere il plurale però direi che lo scoprirò martedì direttamente provandola costo 3 1 1 ast quando handberkine entra attacca una creatura di controlli diventa in modo prende in modo perpetuo più 1 più 0 quindi anche lei stessa volendo se questa creatura di controlli diventa target di una spell abilità causando una trigger ability questa ability triggera due volte e quindi parliamo del topo no le line rossa doppia mostrous rage le line si ma anche direttamente il topolino cioè il topolino prende due volte il trigger del segnalino più 1 più 1 volendo si questa potrebbe essere top di curva in quel mazzo lì mi chiedo c'è già il lord come top di curva è quello che non mi conviene costa 3 hai capito eh sì quel mazzo di solito a 2 si ferma perché ti vuole riempire di spell perché vuole potenziare i topini e poi a turno 3 ti vuole fare il lord se vuole fare il lord in quel turno a volte ti chiude prima con le spell che piuttosto è farti il lord però cioè non mi piace a me poi 1-1 è vero che gli fai trigger a due volte valiant se tu la fai solo però perdi la carta quindi boh più che altro 1-1 vuol dire che puoi attaccare solo una volta letteralmente non lo so il lord lo togli questo è più forte fa trigger due volte valiant ma costa 3 rock devi sopravvivere un turno questa no no perché devi sopravvivere un turno è perché il turno dopo vuoi fare le spell quando la fai turno 2 fai il 2 quello a 2 mana e turno 3 fai questa è come le casti le spell che giochi le spell a 0 surgical e noxious revival e ornitottero quando è spell a 0 questo forse non ci stiamo capendo la seconda è tipo una passiva cioè non solo in quel caso cioè in qualsiasi caso questa qui anche se ti fa l'avversario a me questo non sembra male secondo me arriva tardi eh quello può essere un problema però cavolo secondo me è più forte il lord perché il lord ti dà statistiche in bordo è un mazzo che comunque va abbastanza largo perché gioca i topini 1 o 2 con con offspring che vuole comunque va largo e comunque c'è da dire anche che la lista è abbastanza close tante cose oltretutto a turno 3 o vuoi fare il lord o vuoi riempire due pezzi di spell perché ricordiamoci che quel mazzo è un un boros eroico alla fine andiamo avanti è da è da provare questa è la classica ragazza da provare oh vediamo un po' gli uccelli credo sia l'ultima tra l'altro sì penso di sì Wimbrig il ladro di ali praticamente volare quando entra target opponent rivela ogni non land card nella sua mano scegli una di queste quella carta in modo perpetuo prende quando questa carta quando casti questa spell ogni opponent pesca e guadagna 2 vite 3 vite pesca 1 e guadagna 3 vite beh non è bruttissima però turno 3 si questo è un 5-1 no non è un 5-1 è un 3-1 perché triggera due volte l'1-0 questo quando attacca attacca come 3-1 no è un 5-1 perché? perché poi perché entra e attacca e sì e quindi? si auto target c'entra e il lord è più scarso perché da più solo più uno più uno alla board da più uno più uno no aspettate questa perché 5-1 scusate perché entra triggera due volte l'effetto e diventa 3-1 attacca perché ha haste e ritriggera due volte l'effetto ah perché entra attacca sì è vero sì scusate comunque secondo me il lord è sempre più forte perché da più uno più uno alla board vabbè la mette le creature fuori da da pyroclasm fuori da un po' di cose non trigger aspetta che qui devo vederla eh dobbiamo rileggere bene la carta no ma invece sì perché andando ad auto targettarsi si risolve esattamente questo effetto se una creatura controlli cioè lei stessa diventa target di una spell o di un'abilità quindi lei stessa sì sì e triggera due volte triggera quattro volte 5-1 5-1 non sia auto targett sì invece target creature che controlli quindi direbbe other sì sì no 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 si auto targetta triggera due volte se il trigger è innescato è all'essere targettato sì quando entra non si dà no allora ragazzi scusate quando entra triggera e quindi diventa 3-1 se si auto targett quando attacca ritriggera e si raddoppia sì 5-1 sì 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 allora questo abbiamo detto volante quando entra targettopponent sceglie rivela le carte noi le scegliamo e quella carta ti fa pescare una carta e ti fa guadagnare un punto al tuo opponent noi però la giochiamo quindi è noi quindi è noi che tu stai decidendo una carta di oppo che dice che l'avversario del tuo avversario quindi noi ho capito ma chi se ne frega cioè fa schifo infatti fa schifo sì 3 mana pesca una carta e guadagni un punto di vita no questa è simpatica nella cosa in più 3 mana ti vedo la mano che comunque è una cosa forte in magic ti vedo la mano ti vedo la mano e comunque ti ho visto la mano e l'ho fatto e in più mi farai cioè ti prendo la carta più rompicazzo che hai la giochi però almeno io cavolo guadagnerò vite e pescaro una carta non è malissimissimissimissimo no però ovviamente ho fatto la battuta su vcontrol vcontrol non gioca a creature non è un vcontrol però se dovresti uscire una zorius midrange una cosa del genere che ne so è comunque un incantesimo comunque il star questo è più da tempo tech che da ma si giocavano mille anni fa no ma dove lo trovi il tempo di fare un drop a 3 a 3 mana questa open di 3 step side questa open no oddio però contro aggro che blocchi no 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 anche perché le viste e perché non sto rimanendo open di removal diciamo che questa è l'influzione che sta parlando no raga no no bolt non è un effetto da nero perché ci sono state carte in passato simili tipo banalmente cricca ecco non è da nero perché non ti fa scartare banalmente se ti facesse scegliere scartare sarebbe da nero qua ti fa vedere la mano io la proverò e nessuno te lo impedirà anche perché è un common quindi nemmeno assolutamente però se parliamo di storico una carta del genere in control spero di quando tu la provi di essere il tuo avversario eh sì anch'io giochiamo sia io che lui si scherza eh caro si scherza non è un power level da storico se invece parliamo di uv control in alchemy non credo esista però magari si potesse cioè magari là però anche lì non lo so meglio una rimozione in più meglio un counter non lo so ci devo pensare però allora possiamo possiamo dire la mia più forte posso dirvi qual è poi vi dirò anche cloud anzi vi dico la mia top 3 al primo posto per quanto mi riguarda c'è ovviamente welcome the darkness questa per me è la carta più forte dell'espansione al secondo posto per motivi che abbiamo già detto al secondo posto per me c'è il demone assolutamente secondo posto il demone per motivi già espressi terzo posto per quanto mi riguarda il processionist perché per me dare convoc all'espelling cantesimo è una cosa molto forte quindi questa è la mia top 3 chiederei anche a cloud di farla allora un secondo allora secondo me il processionist è la carta più forte primo posto questo seguito seguito da il fammi rivedere un attimo le carte il il demone non lo metto secondo assolutamente ok no ah seguito dal pipistrello 2-2 ok per il botto e terzo posto il demone immagino sì 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 terzo posto ti rivediamo un attimo le prime il demone che addirittura non lo metti per i tre non lo so devo rivedere le prime ah ok fammi un attimo rivedere le prime perché non me la ricordo le prime no ti anticipo già che eh no non mi ricordo no è il demone allora terzo il demone quindi il peschino nero tu no ma dove la metti ultima immagino il peschino nero io il peschino nero lo metto dopo eh Noxus Revival più o meno interessante ciao Claudione come stai tutto bene abbiamo fatto abbiamo appena terminato la review dell'espansione Alchemy cosa del quale a te immagino offre il minimo visto che non giochi Alchemy nemmeno io fino adesso ho giocato Alchemy però dopo questa espansione infatti approfitto per il riepilogone questa carta potrebbe esistere anche Real ma anche altre cioè questa non ha nessun effetto di di digital only anche perché crea un token cioè questa è una carta che può essere tranquillamente Real magari l'hanno anche pensato ma sai che c'è non l'abbiamo stampata buttiamo le lacrime perché fa schifo al cazzo questa è la carta più forte di Magic ma una menzione onorevole vabbè sì la menzione a questa che ti dà qualsiasi carta di Magic questa qui è molto interessante secondo me con questa espansione un attimino sia come divertimento che come power level stiamo salendo perché le ultime espansioni di Alchemy sono state veramente brutte dopo Ice a parte Bloom Barrow vabbè c'è stata anche la rotazione ha fatto svolta un po' di mazzi però cioè qua vedo delle carte cioè ma il demone secondo me in historic in qualche mazzo viene giocato cioè questa carta è forte cioè questa è la reali con la Nert 7-7 volare e landa era in Karl of Manor sì però questa cioè c'è Anert in historic non so se c'è una carta più forte di questa tranne se consideriamo Grisfang per la combo però va bene cioè questa anche da sola senza combo o 7-7 volare c'è una carta più forte di questa l'occhio da rianimare con Anert no Kedis vabbè perché però ho detto non combo non combo ma l'occhio sì secondo me sì secondo me l'occhio ma io io questa l'ho messa al mio secondo posto perché io mi sono innamorato di questa il Mono Black Devotion secondo me questa carta qui è tanto forte però meme a parte visto che voi pensate che io scherzo ma io non sto scherzando questa mi piace però domani mi devi montare sto Mono Black Devotion in historic e ci devi fare almeno 5 vittorie non è una cosa che farò però questo devone perché se sei così sicuro lo sai che non uso le wildcard io aspetto che lo fanno gli altri poi copio il mazzo se il mazzo fa risultati ma ti pare che io faccio i mazzi guarda io perché c'ho tre miti che se no l'avrei fatto io io aspetto che gli altri facciano il risultato mi crafto il mazzo dopodiché faccio qualche modifica e dico che è mio è ovvio comunque ragazzi questa potrebbe aspetta che volevo chiudere un attimo con il discorso di John Micidia scusa Cloud John sta carta è tua sta carta è tua o no? John Micidia questo è il tuo reanimator cioè combo reanimator lo fai diversamente comunque no scusa Cloud dicevi allora io faccio una promessa e la faccio a Siramon monterò Orzov Pipistrelli in Alchemy beh penso che già già si possa giocare no? eh ma con quel 2-2 è molto più forte però perché cavolo deep cover bat che ti entra non lo so 3-3 eh eh insomma vedremo vediamo e quindi farò questa promessa a Siramon gli darò un Orzov competitivo per giocare da giocare esce martedì e mi sa che è la volta buona che ricomincio con Alchemy mi sa che è la volta buona che ricomincio con Alchemy in tutto ciò ragazzi questo video qui ve lo farò uscire su YouTube o domenica o martedì stesso che esce l'espansione alle sempre alle 10 di mattina quindi chi non l'ha vista all'inizio può rivedere tutta la la review e io vi saluterei come anche Claudio perché stiamo a pezzi tutti e due con l'influenza io grazie a tutti